La signorina Else Schnitler Non vuoi proprio giocare, Else? No, Paolo, non ce la faccio più. Adieu. Arrivederla, signora. Ma, Else, mi chiami pura signora Cissi? O meglio ancora, semplicemente, Cissi. Arrivederla, signora Cissi. Perché se ne va già, Else? Mancano ancora due ore buone per il dinner. Faccia pure il suo singolo con Paolo, signora Cissi. A giocare con me, oggi, non c'è proprio gusto. Ma lasci andare, signora. Oggi è di cattivo umore. Anzi, l'essere di malumore ti dona, Else. E lo sweater rosso ancora di più. Speriamo che tu abbia più fortuna con l'azzurro, Paolo. Adieu. È stata una bella ritirata. Speriamo che quei due non pensino che io sia gelosa. Girerei che c'è qualcosa fra il cugino Paolo e Cissi Moore. Niente al mondo mi è più indifferente. Ora mi volto ancora e faccio loro un cenno di saluto. Faccio un cenno e sorrido. Sembro di buon umore adesso. Addio. Giocano di nuovo. Veramente gioco meglio, dice Cissi Moore. E Paolo non è poi proprio un asso, ma ha una bella presenza, col colletto aperto e con quella faccia di ragazzo cattivo, se fosse solo meno affettato. Però non aver paura, zia Emma. Che serata meravigliosa. Oggi sarebbe stata la giornata adatta per la gita della capanna Rosetta. Come Sergio è stupendo, nel cielo il Cimone. Si sarebbe partiti alle cinque di mattina. Da principio naturalmente mi sarei sentita male, come al solito. Ma poi passa. Niente di più delizioso che camminare all'alba. Quell'americano, con un occhio solo, alla Rosetta, sembrava un pugilatore. Forse qualcuno gli avrà cavato l'occhio durante un combattimento. Vivrei volentieri in America, da sposata. Ma non con un americano. Oppure sposo un americano e viviamo in Europa. Villa sulla riviera. Scale di marmo che portano fin nel mare. Sto sdraiata nuda sul marmo. Quanto tempo è passato da che siamo stati a Mentone? Sette, otto anni. Avevo tredici o quattordici anni. Ah sì, allora stavamo ancora molto bene. Mi è stato veramente sciocco di mandare la gita. A quest'ora saremmo stati comunque già di ritorno. Alle quattro, quando sono andata a giocare a tennis, l'espresso annunziatomi del telegramma di mamma non era ancora arrivato. Chissà se ora avrei potuto benissimo giocare ancora a un set. Perché mi salutano quei due giovani? Non li conosco affatto. Gagliari abitano nell'hotel. A pranzo siedono a sinistra, presso la finestra, al posto occupato prima dagli olandesi. Ho risposto poco cortesemente al saluto. O sono stata addirittura arrogante. Ma se non lo sono affatto. Come ha detto Fred, mentre tornavamo a casa dopo il Coriolan, che ha un carattere allegro. No, che sono orgogliosa e sicura di me. Lei è solo orgogliosa e sicura di sé, Elsa. Non è arrogante. Belle parole. Trava sempre delle belle parole. Perché cammino così piano? Ho forse paura della lettera di mamma. Però, notizia liete non ne conterrà di certo. Espresso. Forse dovrò rientrare. Ah, che vita. Nonostante lo sweater di seta rosso e le calze di seta. Tre paia. La parente povera è invitata dalla zia ricca. Sicuramente ne sarà già pentita. Te lo devo mettere per iscritto, cara zia. Che a Paul non penso neppure in sogno. Non penso a nessuno, io. Non sono innamorata di nessuno. E non sono stata mai innamorata. Eppure di Albert lo sono mai stata. Sebbene abbia creduto di esserlo per otto giorni di seguito. Credo di non potermi innamorare. Veramente strano. Perché sensuale lo sono di certo. Ma anche arrogante e scortese. Grazie a Dio. A tredici anni è stata forse l'unica volta che mi sono veramente innamorata. Di Van Dyck. O piuttosto dell'abate del Grie e anche della Renard. E a sedici anni sul Werthersee. Ma no, fu una cosa di nessuna importanza. Ma che però, pensarci. Non scrivo certo le mie memorie. Neppure un diario, come Bertha. Fred mi è simpatico. Niente di più. Forse, se fosse più elegante. Certo, non sono una snob. Anche papà lo crede e mi prende in giro. Oh, caro papà. Mi dai molte preoccupazioni. Chissà se hai mai tradito la mamma. Sicuro? Piuttosto spesso? Ma mamma è quanto stupida. Non mi conosce affatto. E gli altri neppure. E Fred? Ma proprio solo un poco. Eh, serata incantevole. Che atmosfera di festa c'è nell'hotel. Si sente. Tutta la gente sta bene e non ha preoccupazioni. Io, per esempio. Peccato. Sarei fatta apposta per una vita spensierata. Potrebbe essere così bello. Peccato. Sul cimone è sospeso un fulgore rosso. Paul direbbe al penglian. Ma non è affatto lo stesso. È bello da piangere. Ma perché bisogna ritornare in città? Buonasera, signorina Else. Riferisco, signore. Viene dal tennis. Ma lo vede? Perché me lo domanda? Sì, signora. Abbiamo giocato quasi tre ore. E lei? Signora. Fa ancora una passeggiata? Sì, la mia solita passeggiata serale. È così bello camminare tra i prati. E di giorno c'è quasi troppo sole. È vero. I prati qui sono magnifici. Specialmente al chiaro di luna e dalla mia finestra. Buonasera, signorina Else. Riferisco, signora. Buonasera, signor Von Dorsday. Dal tennis, signorina Else? Ti accume, signor Von Dorsday. Non si burdi di me, Else. Perché non dice signorina Else? Quando si fa così bella figura con la racchetta, la si può portare comunque anche come ornamento. Somaro. Non gli risponderò affatto. Abbiamo giocato tutto il pomeriggio. Purtroppo eravamo solo in tre. Paul, la signora Moore ed io. Una volta era un appassionato giocatore di tennis. Ora non lo è più? Ora sono troppo vecchio per giocare. Ah, vecchio. A Marienlist era uno svedese di 65 anni che giocava ogni sera dalle 6 alle 8. E l'anno precedente aveva addirittura preso ancora parte a una gara. Ma 65 non li ho ancora, grazie a Dio. Ma purtroppo non sono neanche uno svedese. Perché purtroppo? Lo ritiene certamente una battuta di spirito. La cosa migliore? Sorrido cortesemente e me ne vado. Riferisco, signora. Adiè, signor Von Dorsday. Che profondo inchino. E che occhi che fa. Occhi di vitello. Che l'abbia poi offeso con la storia dello svedese di 65 anni. Poco male. La signora Vinawer deve essere infelizia. Sicuramente già vicina a 50. E che occhiaie? Come se avesse pianto molto. Che cosa terribile essere così vecchi. Il signor Von Dorsday si prende cura di lei. Le cammina al fianco. Ancora un ottimo aspetto. Con la barba a pizzo brizzolata. Ma simpatico non lo è. Si tira su artificiosamente. A che serve il suo sarto di prim'ordine, signor Von Dorsday? Dorsday. Una volta aveva certamente un altro nome. Ma ecco che viene la graziosa bambina di Cissi con la governante. Ciao, Frizzi. Bonsoir, mademoiselle. Vous allez bien? Merci, mademoiselle. E vous? Che vedo, Frizzi. Hai un bastone da montagna. Vuoi forse scalare il cimone? Oh no. Così in alto non ho ancora il permesso di andare. L'anno venturo l'avrai di certo. Eh, Frizzi. A bien toi, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Simpatica ragazza. Perché mai farà la bambinaia? E' per giunta da Cissi. Amaro destino. Addio. Potrebbe capitare anche a me. No. Saprei in ogni caso procurarmi qualcosa di meglio. Di meglio? Sarà da deliziosa. Nadia è come lo champagne, diceva ieri il dottor Waldberg. L'altro ieri l'ha detto anche a un altro. Perché la gente con questo tempo meraviglioso se ne sta seduta nella hall? Inconcepibile. Oppure ognuno di loro aspetta un espresso? Il portiere mi ha già visto. Se ci fosse un espresso per me, me lo avrebbe portato subito. Dunque, niente espresso. Grazie a Dio. Mi riposerò ancora un po' prima del dinner. Perché Cissi dice dinner? Stupida affettazione. Tanno bene insieme Cissi e Paul. Oh, se la lettera fosse già arrivata. Vuoi vedere che arriva durante il dinner? E se non arriva farò una notta taccia. Anche la notte scorsa ho dormito così male. Sicuro. Sono proprio i giorni critici. Perciò mi sento anche le gambe pesanti. Oggi è il 3 settembre. Dunque probabilmente il 6. Prenderò del veronale. Oh, non mi ci si assueferò. No, caro Fred. Non devi preoccuparti. Col pensiero gli do sempre del tu. Bisognerebbe provare tutto. Anche la sciss. Il sottotenente del vascello Brandel ha portato della sciss. Credo dalla Cina. Lo si beve o lo si fuma? Si dice che si hanno delle visioni stupende. Brandel mi ha invitato a bere o a fumare con lui la sciss. Sfacciato. Ma carino. Prego, signorina. Una lettera. Il portiere. Dunque è proprio arrivata. Mi volto del tutto disinvoltamente. Potrebbe anche essere una lettera di Caroline, o della Berta, o di Fred, oppure di Miss Jackson. Tante grazie. Proprio di mamma. Espresso. Perché non dice subito un espresso? Oh, un espresso. Aprirò solo in camera e lo leggerò con tutta calma. La Marchesa. Come sembra giovane nella penombra. Certamente 45enne. Dove sarò a 45 anni? Forse è già morta. Speriamo. Mi sorride così gentilmente. Come sempre. La lascio passare. Chino leggermente il capo. Non che ritenga un onore particolare che una Marchesa mi sorrida. Buonasera. Ma detto buonasera. Ora devo perlomeno farle un inchino. Troppo profondo? Ma ha tanti anni più di me. Che andatura magnifica! Sarà divorciata. Anche la mia andatura è bella. Ma lo so. Sì. Questa è la differenza. Un italiano potrebbe diventare pericoloso per me. Peccato che quel bel moro dalla testa di antico romano sia di nuovo andato via. All'aspetto di una canaglia. L'ha detto Paul. Addio. Non ho nulla contro le canaglie. Anzi. Ma com'è arrivata? Numero 77. In effetti un numero porta fortuna. Stanza graziosa. Legno di pino. Ed ecco là il mio letto virginale. Ora sì c'è un vero Alpenglien. Ma di fronte a Paul lo negherò. In fondo Paul è timido. Un medico. Un ginecologo. Forse proprio per questo. Entro ieri nel bosco. Quando eravamo tanto avanti agli altri. Avrebbe anche potuto essere un po' più intraprendente. Ma allora gli sarebbe andata male. Finora nessuno è stato veramente intraprendente con me. Forse solo sul Werthersee. Tre anni fa nel bagno. Intraprendente? Oh. Semplicemente indecente. Ma bello. L'apollo del bel vedere. In verità allora non me ne sono ben resa conto. Certo. Ma sedici anni. Il mio incantevole prato. Mio. Se lo si potesse portare a Vienna. Ne bie delicate. Autunno? Eh certo. Tre settembre. Alta montagna. Allora signorina Hesel. non vorrebbe infine decidersi a leggere la lettera. Non è detto che debba riferirsi per forza a papà. Non potrebbe anche trattarsi di mio fratello? Forse si è fidanzato con una delle sue fiamme. Con una currista o una guantaia. Ma no. È troppo assennato per fare una cosa simile. In verità non so molto di lui. Quando avevo sedici anni e lui ventuno siamo stati per un certo tempo addirittura amici. Mi ha raccontato molto di una certa lotte. Poi ha smesso improvvisamente. Quella lotte deve avergli procurato qualche dispiacere. Ed allora non mi racconta più nulla. Ora è aperta la lettera. E non mi sono per nulla accorta di averla spiegata. Mi siedo sul davanzale e la leggo. Attenzione a non cadere. Come ci comunicano da San Martino un deplodevole incidente si è verificato all'hotel Fratazza. La signorina Elstiti, bellissima ragazza diciannovenne, figlia del noto avvocato, naturalmente si dirà che mi sono uccisa a causa di un amore infelice o perché ero in stato interessante. Amore infelice? Ah no. Mia cara bambina, prima di tutto voglio guardare la fine. Dunque, di nuovo, non essere in collera con noi, mia cara, brava bambina. Emile, per l'amor di Dio, non si saranno mica suicidati? No. In questo caso sarebbe giunto un telegramma di Rudy. Mia cara bambina, puoi immaginare quanto mi dispiace che proprio durante la tua bella settimana di vacanze, come se non fossi sempre in vacanza, purtroppo, ti piombi addosso con una notizia così spiacevole. Uno stile tremendo questo di mamma. Ma, dopo matura riflessione, non mi resta veramente nient'altro da fare. Dunque, in breve, la situazione di papà è diventata critica. Non so più come fare. Perché tante parole? Si tratta di una somma relativamente irrisoria. Trentamila fiorini. Irrisoria? Che bisogna procurare in tre giorni, altrimenti tutto è perduto. Per l'amor di Dio, che significa? Pensa, mia cara bambina, che il barone Hennig, come? Il procuratore di Stato, stamattina ha mandato a chiamare papà. Sai bene quanto il barone stimi, papà. Addirittura gli voglia bene. Un anno e mezzo fa, quando tutto era legato a un filo, ha parlato personalmente con i principali creditori e ha salvato la situazione proprio all'ultimo momento. Ma questa volta non c'è assolutamente nulla da fare se non si trova il denaro. E a parte il fatto che saremmo tutti rovinati, ne nascerebbe uno scandalo come ce ne sono stati pochi. Pensa, un avvocato, un avvocato famoso, che... No, non ce la faccio proprio a scriverlo. Devo continuamente trattenere le lacrime. Tu lo sai, figlia mia, sei giudiziosa. Da alcune volte, Dio lo sa, ci siamo trovate in una situazione simile e la famiglia ci ha tirato fuori dagli impicci. L'ultima volta si è trattato addirittura di 120.000. Ma allora papà si dovette impegnare per iscritto a non rivolgersi mai più ai parenti, in particolare allo zio Bernard. Beh, avanti, avanti, dove vogliamo arrivare? Che posso farci io? L'unico a cui si potrebbe eventualmente ancora pensare sarebbe lo zio Victor, ma disgraziatamente è in viaggio verso il Caponord o verso la Scozia. Sì, lui si rapassa bene quell'individuo schifoso ed è assolutamente irraggiungibile, almeno per il momento. Ai colleghi, in particolare al dottor Shhh, che ha già aiutato spesso papà, Signore Dio, che figura ci facciamo? Non c'è più da pensare da che si è risposato. E allora che volete da me? E così, mia cara bambina, è arrivata la tua lettera, dove, tra l'altro, parli di Dorsday, che alloggia pure al fratazza. E questo ci è sembrato un cenno del destino. Sai bene quante volte Dorsday e gli anni passati è venuto da noi? Beh, addirittura troppo spesso. È un puro caso che da due o tre anni si fa vedere più di rado. Sembra che sia avvinto in lacce abbastanza forti. Detto tra noi, niente di molto fine. Perché detto tra noi? Al Residence Club, papà gioca sempre con lui, ogni giovedì la sua partita di Whist. E l'inverno scorso gli ha salvato una bella somma di denaro in un processo contro un altro negoziante d'arte. Da Rasto, perché non dovresti saperlo? Ha già aiutato papà un'altra volta. Me l'avevo immaginato. Allora si è trattato di una sciocchezza. Ottomila fiorini, ma in fondo nemmeno trentamila costituiscono una cifra considerevole per Dorsday. Perciò ho pensato che potresti farci il favore di parlarne con Dorsday. Che? Ha avuto sempre una particolare simpatia per te. Non me ne sono mai accorta. Mi ha carezzato la guancia quando avevo dodici o tredici anni. Da, una vera signorina. E poiché papà per fortuna non si è rivolto a lui dopo quegli ottomila, certamente non gli rifiuterà questa cortesia. pare che recentemente su un solo Rubens venduto per l'America abbia guadagnato ottantamila fiorini. Ma di questo si capisce. Non devi far parola. Mi crede un'oca, mamma? Per il resto gli puoi parlare del tutto francamente. E se dovesse dare l'occasione puoi anche dirgli che il barone Hoenig ha mandato a chiamare papà e che quei trentamila effettivamente si avita il disastro non solo per il momento ma se Dio vuole per sempre. Lo credi davvero, mamma? Poiché il processo Herbesheimer che si presenta magnificamente frutterà a papà certamente centomila ma è chiaro che dagli Herbesheimer proprio in questo momento non può pretendere nulla. Dunque, ti prego, figlia mia, parla con Dorsley. Ti assicuro che non c'è niente di sconveniente. Papà avrebbe potuto semplicemente telegrafaggi. Ti abbiamo pensato seriamente ma è tutta un'altra cosa figlia mia quando si parla personalmente con qualcuno. Il sei alle dodici il denaro deve essere qui. Il dottor F chi è il dottor F? Ah già, Fiala è inesorabile. Naturalmente sono in gioco anche dei rancori personali ma poiché disgraziatamente si tratta di un fondo pupillare. per l'amor di Dio papà che hai fatto? Non si può far nulla e se il denaro a mezzogiorno del 5 non sarà nelle mani di Fiala verrà emesso il mandato di cattura o piuttosto fino a quella data il barone Hoenig farà in modo da non farlo emettere ancora. Dunque Dorsley dovrebbe attraverso la sua banca far pervenire telegraficamente la somma al dottor F solo allora saremo salvi altrimenti Dio sa cosa accadrà credimi mia amatissima bambina non ci rimetti per niente papà da principio aveva dei dubbi addirittura ha fatto ancora tentativi in due direzioni diverse ma è tornato a casa completamente disperato è possibile veramente che papà sia disperato forse non tanto a causa del denaro quanto per il comportamento così vergognoso della gente nei suoi riguardi una di questi era una volta il miglior amico di papà puoi immaginare che intendo dire non riesco ad immaginarmi proprio nulla papà di ottimi amici ne ha avuti tanti e in realtà nessuno Warnsdorf forse papà è venuto a casa a luna e ora sono le 4 del mattino ora finalmente dorme grazie a dio e non si risvegliasse più sarebbe la cosa migliore per lui di primo mattino andrò io stessa alla posta a spedire la lettera per espresso in modo che la diceva la mattina del 3 come ha fatto ad arrivarci mamma se non ha mai capito nulla di queste cose dunque parla subito con Dosti te ne sconduro e telegrafa immediatamente come si è risolta la cosa non lasciar capir nulla a zia Emma per l'amor di dio è già triste abbastanza che in un caso simile non ci si possa rivolgere alla propria sorella ma sarebbe lo stesso che parlare con un sasso mia cara bambina mi dispiace tanto che alla tua giovane età debba essere coinvolta in simili faccende ma credimi papà ha solo una minima parte di colpa e chi ce l'ha allora mamma comunque voglia è dio che il processo Herbesheimer rappresenti per noi sotto tutti i riguardi una nuova fase di vita dobbiamo solo superare queste poche settimane non sarebbe una vera beffa se a causa di questi trentamila fiolini capitasse una disgrazia non crederà sul serio che papà si ma se non lo facesse non sarebbe ancora peggio ora smetto figlia mia spero che in tutti i casi in tutti i casi posso ancora restare a San Martino durante i giorni di festa almeno fino al nove o al dieci non devi assolutamente tornare per causa nostra saluta la zia e sii sempre gentile con lei dunque nuovamente non essere in collera con noi mia cara brava bambina gli abiti mille sì questo l'ho già letto dunque dovrei spillare denaro al signor Dostey pazzesco come si immagina la cosa mamma perché papà non si è messo semplicemente in treno ed è venuto avrebbe impiegato proprio quanto l'espresso ma forse alla stazione l'avrebbero per sospetto di fuga terribile terribile anche i trentamila non serviranno a tirarci fuori dai guai sempre le stesse storie da sette anni no da prima ancora chi potrebbe accorgersene guardandomi nessuno può leggere qualcosa nel mio viso e nemmeno in quello di papà eppure lo sanno tutti strano che riusciamo ancora a tenerci in piedi come ci si abitua a tutto eppure viviamo abbastanza bene mamma è veramente un artista la cena per quattordici persone l'ultimo capodanno incredibile ma in compenso che storia per quelle mie due paia di guanti da ballo e quando recentemente Rudy ha avuto bisogno di trecento fiorini mamma ha quasi pianto papà è invece sempre di buon umore sempre? oh no l'ultima volta all'opera durante le nozze di Figaro il suo sguardo un tratto completamente vuoto mi sono spaventata sembrava un altro ma dopo abbiamo cenato al Grand Hotel ed era più allegro che mai e io me ne sto con la lettera in mano ma la lettera è pazzesca dovrei parlare con Dosti morirai di vergogna vergognarmi io? e perché? non ne ho certo colpa se tuttavia parlassi con la zia Emma sciocchezza probabilmente non ha neppure tanto denaro a disposizione lo zio è uno spilorcio addio perché non ho denaro? perché non ho guadagnato ancora nulla? perché non so far nulla? oh qualcosa l'ho imparata chi può dire che non ho imparato nulla? sono il pianoforte conosco il francese l'inglese anche un po' d'italiano ho frequentato delle lezioni di storia dell'arte e anche se avessi imparato qualcosa di più importante a che mi servirebbe? trentamila fiorini non li avrai messi da parte in nessun modo è finito l'alpenglien la sera non è più meravigliosa il posto è triste no non il posto la vita è triste e io me ne sto seduta qui tranquilla sul davanzale mentre papà deve essere arrestato no mai e poi mai non può essere lo salverò sì papà ti salverò e poi è molto semplice qualche parola detta con tutta indifferenza è proprio il caso che fa per me orgogliosa e sicura di sé tratterò il signor Dostey in modo da dargli l'impressione che sia un onore per lui prestarci dei soldi ed è un onore signor Von Dostey ha un momento di tempo ricevo proprio ora una lettera da mamma si trova in un momentaneo imbarazzo anzi più che mamma papà ma si capisce signorina con grandissimo piacere di quanto si tratta se solo non mi fosse così antipatico anche quel modo di guardarmi no signor Dostey non credo alla sua eleganza né al suo monocolo né alla sua nobiltà potrebbe commerciare in abiti vecchi altrettanto bene come in quadri antichi ma Else Else che ti salta in mente oh me lo posso permettere nessuno se ne accorge guardandomi sono anche bionda un biondo fulvo erudia assolutamente l'aspetto di un aristocratico con mamma lo si capisce naturalmente subito almeno quando parla con papà invece proprio per nulla poi del resto se ne accorgano pure io non lo nascondo affatto erudi in meno che mai anzi che farebbe Rudy se arrestassero papà si sparerebbe ma che sciocchezze spararsi e carcere tutte cose che non esistono per nulla si trovano solo scritte sui giornali l'aria è come lo champagne tra un'ora c'è il dinner il dinner non posso soffrire la Cissi non si cura affatto della sua bambina che vestito devo mettere l'azzurro o il nero oggi forse sarebbe più adatto il nero troppo scollato toilette de circonstance si legge nei romanzi francesi in ogni caso dovrò avere un aspetto seducente quando parlerò con Dorsday dopo il dinner non chalant i suoi occhi penetreranno nella mia scollatura individuo ripugnante lo odio odio tutti devo rivolgermi proprio a Dorsday c'è veramente al mondo solo questo Dorsday ad avere trentamila fiorini se parlassi con Paul se dicessi alla zia di avere debiti di gioco lei si procurerebbe sicuramente il denaro da quasi buio notte notte di tomba preferirei essere morta non è affatto vero se scendessi subito ora e parlassi a Dorsday ancora prima del dinner ah com'è orribile Paul se mi procuri i trentamila puoi avere da me ciò che vuoi di nuovo come in un romanzo la nobile figlia si vende per salvare l'amato padre e alla fine ne ricava anche un piacere no Paul anche per trentamila non potrai avere nulla da me nessuno ma per un milione per un palazzo per una collana di perle se un giorno mi sposerò lo farò probabilmente per meno ma è poi tanto brutto in fondo anche Fanny si è venduta e stessa mi ha detto che ha ribrezzo del marito allora che ne diresti papà se stasera mi mettessi all'asta per salvarti dalla galera grande impressione ho la febbre ne sono certa o sono già indisposta no ho la febbre forse a causa dell'aria come lo champagne se Fred fosse qui mi potrebbe consigliare non ho bisogno di consigli e poi non c'è nulla da consigliare parlerò con il signor Dorsday di Eperie gli spillerò denaro io l'orgogliosa l'aristocratica la marchesa la mendicante la figlia del defraudatore come mai mi trovo in questa situazione come mai nessuna si arrampica così bene come me nessuna ha tanto slancio sporting girl avrai dovuto nascere in Inghilterra oppure contessa ecco gli abiti appesi nell'armadio è stato poi pagato il lode in verde mamma solo un anticipo credo indosserò l'abito nero ieri mi hanno guardata tutti anche quel signore piccolo e pallido con il pince d'oro in verità non sono bella ma interessante avrai dovuto dedicarmi al teatro Berta ha già tre amanti nessuno ci bada Addisendorf era il direttore la Damburg aveva una relazione con un uomo sposato e abitava l'Atlantic appartamento con bagno credo addirittura che ne vada fiera sono tutte stupide avrò cento amanti mille perché no la scollatura non è profonda abbastanza se fossi sposata potrebbe esserlo di più che fortuna incontrata ora signor Dossday ricevo proprio in questo momento una lettera da Vienna la lettera la prendo con me ad ogni buon conto devo far venire la cameriera no mi preparo da sola per il vestito nero non ho bisogno di nessuno se fossi ricca non viaggerai mai senza camerista devo accendere la luce comincia a far freddo finestra chiusa tenda tirata inutile non c'è nessuno con un binocolo sulla montagna di fronte peccato ricevo proprio in questo momento una lettera signor von Dossday forse sarebbe preferibile dopo il dinner sia sempre di buon umore anche Dossday prima potrei bere un bicchiere di vino ma se la cosa si risolvesse prima del dinner mangerai con più gusto padding alla meraveille fromage e fruit diverse e se il signor von Dossday dice di no o se diventa addirittura audace ma no finora nessuno è stato ancora audace con me cioè il sottotenente di vascello brandi ma non aveva cattive intenzioni mi sono fatta di nuovo un po' più snella mi dona il crepuscolo guarda nella stanza la fissa come uno spettro come cento spettri dal mio prato si levano gli spettri quanto dista Vienna quanto tempo è che sono lontana come sono sola qui non ho un'amica neanche un amico dove sono tutti chi sposa la figlia di un defraudatore ricevo ricevo in questo momento una lettera signor von dorsday ma non è proprio il caso di parlarne signorina else proprio ieri ho venduto un rembrandt lei mi omilia signorina else e poi strappa un foglio dal suo libretto di assegni e firma con la sua stilografica d'oro e domattina parto per Vienna con l'assegno in ogni caso anche senza assegno non resto più qui non potrei affatto non ne avrai il diritto faccio la vita di una signorina elegante e papà sta con un piede nella fossa no nel carcere un penultimo paio di calze di seta un piccolo strappo proprio sotto il ginocchio non lo nota nessuno nessuno? chissà non essere frivola else Berta è semplicemente una scarogna ma Cristina è forse migliore il suo futuro marito avrà di che essere contento mamma è stata certamente sempre una moglie fedele io non sarò fedele sono orgogliosa e sicura di me ma non sarò fedele le canaglie sono un pericolo per me la marchesa assicura una canaglia per amante se Fred mi conoscesse veramente non mi ammirerebbe più avrebbe potuto fare qualsiasi cosa signorina la pianista la contabile l'attrice ha tante possibilità ma ha avuto sempre una vita troppo facile troppo facile ah 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 Fred mi sopravvaluta in realtà non ho talento per nulla chissà una carriera come quella di Berta avrai potuto farla anch'io ma mi manca l'energia signorina di buona famiglia ah buona famiglia il padre si appropria indebitamente di denaro pupillare perché mi fai questo papà se almeno ne avessi dei vantaggi ma perderlo giocando in borsa ne vale la pena e i trentamila neanche ti serviranno a nulla forse per tre mesi alla fine sarà pur costretto a scappare un anno e mezzo fa c'eravamo quasi poi venne aiuto ma un bel giorno esso verrà a mancare e allora che ne sarà di noi crudi andrà a rotterdam nella barca di van der lust e io un matrimonio ricco ah se mi mettessi di impegno oggi sono veramente bella forse perché sono eccitata per chi sono bella sarei più contenta se fred fosse qui ah fred in fondo non è nulla per me non è una canaglia ma lo sposerei se avesse soldi e poi verrebbe una canaglia e la disgrazia sarebbe completa mi piacerebbe essere una canaglia signor fondostei da lontano ne ha qualche volta anche l'aspetto come un visconte sciupato dai vizi come un don Giovanni col suo stupido monocolo e il suo vestito di flanella bianco ma lei è tutt'altro che una canaglia ho tutto pronta per il dinner ma che faccio un'ora intera se non incontro dorsday si sta passeggiando con l'infelice signora winever ah non è per niente infelice non ha bisogno di trentamila fiorini allora mi siederò magnificamente in una poltrona nella hall sfoglierò le liustrade news e la vie parisienne accavalerò le gambe lo strappo sotto il ginocchio non si vedrà può darsi che proprio ora sia arrivato un miliardario lei o nessuna prendo lo scelle bianco mi sta bene lo poserò con tutta disinvoltura sulle mie magnifiche spalle per chi le ho mai queste magnifiche spalle potrei rendere un uomo molto felice se soltanto fosse qui l'uomo adatto ma non voglio avere bambini non sono un tipo materno Maria Vail è materna mamma è materna sia Irene è materna io ho una fronte nobile e un bel corpo se potessi dipingerla come vorrei signorina Els sì mi piacerebbe non ricordo più neppure il suo nome Tiziano non era di certo dunque una sfacciataggine proprio in questo momento ricevo una lettera signor Von Dorsey ancora un po' di cipria sulla nuca e sul collo un goccio di profumo di verbena nel fazzoletto chiudere l'armadio riaprire la finestra com'è delizioso da piangere sono nervosa ma come si fa a non essere nervosi in circostanze simili la scatola col veronallo avvicina alle camice avrei anche bisogno di camice nuove sempre la stessa storia per averle addio pauroso gigantesco il cimone come se volesse cascarmi addosso ancora nessuna stella in cielo l'aria è come lo champagne e il profumo dei prati vivrò in campagna sposerò un proprietario terriero e avrò dei bambini il dottor Roliet era forse l'unico col quale avrai potuto essere felice che belle quelle due serate una dopo l'altra la prima da knip e la seconda al ballo degli artisti perché è improvvisamente sparito almeno per me forse a causa di papà probabilmente vorrei gridare un saluto nell'aria prima di ridiscendere tra la gentaglia ma a chi dovrebbe andare il saluto sono sola sono così terribilmente sola come nessuno può immaginarsi salve mio amato chi salve mio promesso sposo chi salve mio amico chi Fred ma neppure per idea bene la finestra resta aperta anche se farà fresco spegnere la luce così prima che me le dimentichi la lettera devo portarla con me per ogni eventualità il libro sul comodino stanotte continuerò a leggere notre coeur assolutamente qualunque cosa accada buonasera bellissima signorina dello specchio servì buona memoria di me a rivederla perché chiudo a chiave qui non rubano nulla chissà se ci si lascia aperta la sua porta di notte o apre solo quando egli bussa è poi una cosa tanto sicura ma naturalmente poi stanno assieme a letto disgustoso non avrò una stanza da letto in comune con mio marito e con i miei mille amanti tutta vuota la scala a quest'ora i miei passi echeggiano sono qui già da tre settimane sono partita da Gmunden il 12 agosto Gmunden era noiosa dove ha preso il denaro papà per mandare me e mamma in campagna e Rudy è stato addirittura un mese in viaggio non sa Dio dove non ha scritto neppure due volte in quel periodo non capirò mai il nostro modo di vivere la mamma non ha più gioielli naturalmente perché Fred si è trattenuto solo due giorni a Gmunden ha sicuramente anche lui un amante vero è che non riesco a immaginarmela ma non riesco ad immaginarmi proprio nulla sono otto giorni che non scrive scrive delle belle lettere ma chi è seduto là a quel tavolino no non è Dorsday grazie a Dio ora prima del dinner sarebbe proprio impossibile dirgli qualcosa perché il portiere mi guarda in maniera così strana che abbia letto l'espresso di mamma ho l'impressione di essere pazza quanto prima devo dargli di nuovo una mancia anche quella bionda è già vestita per il dinner e come si fa ad essere così grassi andrò a fare due passi davanti all'hotel oppure vado nel salone ma non sta suonando qualcuno una sonata di Beethoven come si fa a suonare Beethoven qui sto trascurando il pianoforte ma viene riprenderò ad esercitarmi regolarmente cambierò completamente vita è una cosa che dobbiamo fare tutti così non può continuare una volta o l'altra dovrò parlare seriamente con papà se ce ne dovesse ancora essere il tempo ci sarà ci sarà perché non l'ho fatto mai prima in casa nostra si risolve tutto con gli scherzi e nessuno ha voglia di scherzare ognuno ha effettivamente paura dell'altro ognuno è solo mamma è sola perché non è abbastanza giudiziosa e non sa nulla di nessuno né di me né di Rudy né di papà ma non se ne accorge e nemmeno Rudy se ne accorge è certo un giovane simpatico ed elegante ma ha ventun anni prometteva di più sarà un bene per lui se andrà in Olanda ma dove andrò io vorrei partire e poter fare ciò che voglio se papà scappa in America lo accompagno ho già le idee tutte confuse il portiere mi crederà pazza dal modo come sto seduta sul bracciolo della poltrona e fisso il vuoto mi accenderò una sigaretta dov'è il mio porta sigarette di sopra dove se no il veronà l'ho tra la biancheria ma dov'è mai il porta sigarette e ecco che vengono Cissi e Paul certo deve pur cambiarsi per il dinner altrimenti avrebbero continuato a giocare al buio non mi vedono cosa le dice perché ride così scioccamente sarebbe divertente scrivere una lettera anonima al marito a Vienna sarei capace di una cosa simile mai chissà hanno vista le saluto con un cenno del capo le fa rabbia che io sia così graziosa come è impacciata come Elsa è già pronta per il dinner perché adesso dice dinner e non dinner non è neppure coerente come vede signora Cissi hai un aspetto veramente incantevole Elsa avrei una gran voglia di farti la corte risparmiati la fatica paul dammi piuttosto una sigaretta ma consuma gioia grazie tante com'è finito il singolo la signora Cissi mi ha battuto tre volte di seguito era distratto a proposito lo sa Elsa che domani arriva il principe ereditario di Grecia chi mi interessa del principe ereditario di Grecia ah veramente oddio l'ordi con la signora Buenevor salutano proseguono ho risposto troppo cortesemente al saluto certo del tutto diversamente dal solito che tipo strano che sono ma la tua sigaretta non è accesa Elsa allora fammi accendere un'altra volta grazie il suo scialle è molto carino Elsa le sta benissimo sul vestito nero a proposito ora devo cambiarmi anch'io sarebbe meglio che non se ne andasse sarebbe meglio che non se ne andasse ho paura di Doste ho mandato a chiamare la parrucchiera per le sette è bravissima l'inverno l'inverno lavora a Milano allora adie Elsa adie Paul riferisco signora adie signora Cissi se ne è andata meno male che resta qui almeno Paul posso sedermi un attimo accanto a te Elsa o disturbo i tuoi sogni perché i miei sogni piuttosto la mia realtà ma questo non significa proprio nulla sarebbe meglio se se ne andasse devo pur parlare con Dosti è sempre là con l'infelice signora Gwynevere s'annoia glielo leggo in viso vorrebbe venire da me esiste poi una tale realtà in cui non vuoi essere disturbata ma che dice vada al diavolo perché gli sorrido così civettuola non intendo affatto lui Dosti guarda da questa parte dove sono dove sono ma che ha oggi Elsa che vuoi che abbia è misteriosa demoniaca seducente non dire sciocchezze Paul c'è da impazzire solo a guardarti ma che gli salta in mente come parla con me è carino il fumo della mia sigaretta mi impiglia nei suoi capelli ma ora non so che far bene di lui hai l'aria di non accorgerti di me perché poi Elsa non rispondo proprio nulla non so che far bene di lui ora faccio un viso insopportabile purché non continui a parlare ora pensi a tutt'altro credo che sia proprio così non rappresenta nulla per me Dosti si accorge che l'aspetto non guardo nella sua direzione ma so che lui guarda da questa parte allora addio Elsa meno male mi bacia la mano altrimenti non lo fa mai addio il Paul dove ha preso questa voce carezzevole se ne va l'imbroglione probabilmente deve ancora mettersi d'accordo con Cissi per questa notte auguro buon divertimento mi tiro lo scialle sulle spalle mi alzo ed esco davanti all'hotel certamente farà già un po' fresco peccato che il cappotto ah ma stamattina l'ho lasciato in portineria sento lo sguardo di Doste sulla nuca attraverso lo scialle la signora Guineville sale ora nella sua stanza come faccio a saperlo telepatia ma prego signor portiere la signorina desidera il soprabito sì per favore le serate sono già un po' fresche signorina a noi succede così all'improvviso grazie devo proprio uscire davanti all'hotel certo che faccio se no in ogni caso sulla porta ora vengono uno dopo l'altro il signore col pinchnets d'oro il lungo biondo col panciotto verde tutti mi guardano chiarina quella piccola ginevrina no è di losanna veramente non fa poi così fresco buonasera signorina else dio mio è lui non dico nulla di papà neppure una parola solo dopo mangiato oppure parto domani per Vienna vado personalmente dal dottor Fiala perché non mi è venuto in mente subito mi è volto come se non sapessi chi c'è dietro di me ah signor fondoste vuol fare ancora una passeggiata signorina else ma non proprio una passeggiata voglio solo andare un po' su e giù prima del dinner manca ancora quasi un'ora veramente non fa poi così fresco i monti sono azzurri sarebbe buffo se improvvisamente chiedesse la mia mano certo non c'è al mondo un posto più bello di questo trova signor fondoste ma le prego non dica che l'aria qui è come lo champagne no signorina else questo lo dico solo a partire dai 2000 metri e qui siamo appena a 1650 sul livello del mare è una così gran differenza ma si capisce è stata mai in Engadina no mai ebbene lì l'aria è veramente come lo champagne lo si potrebbe quasi dire ma la champagne non mi piace eccessivamente preferisco questa zona qui se non altro per i meravigliosi boschi com'è noioso non se ne accorse evidentemente non sa bene di che cosa deve parlare con me con una donna sposata sarebbe più facile si dice una piccola indecenza e la conversazione procede resterà ancora a lungo qui a San Martino signorina else che idiozie perché lo guardo in maniera così civettuola e già sorride in quel certo modo no come sono stupidi gli uomini dipende in parte dalle disposizioni di mia zia non è per nulla vero posso andare sola a Vienna forse fino a 10 la mamma è ancora a Gmunden no signor von Dorsi è già a Vienna già da tre settimane anche papà è a Vienna quest'anno non si è preso neppure una settimana di vacanza credo che il processo Erbesheimer gli dia moltissimo da fare posso immaginarmelo ma suo padre è certo l'unico che possa cavare d'impaccio Erbesheimer è già un successo poi che la cosa sia diventata di competenza civile così va bene mi fa piacere sentire che anche lei fa delle previsioni così favorevoli previsioni in che senso nel senso che papà riuscirà a vincere il processo Erbesheimer non credo proprio di averlo affermato con certezza come già si tira indietro ma non gli riuscirà oh io credo alle previsioni e ai presentimenti pensi signor von Dorsday proprio oggi ho ricevuto una lettera da casa questa non è stata una mossa molto abile fa una faccia un po' sballordita ma avanti senza fermarsi è un vecchio amico di papà avanti avanti adesso o mai signor von Dorsday lei ha parlato poc'anzi così bene di papà che sarebbe addirittura odioso da parte mia se non fosse del tutto sincera con lei perché spalanca gli occhi in quel modo ma me si accorge di qualcosa avanti avanti dunque in quella lettera si parla anche di lei signor von Dorsday è precisamente una lettera di mamma ah sì veramente è una lettera molto triste lei conosce certo le condizioni della nostra famiglia signor von Dorsday per l'amor del cielo mi trema la voce avanti avanti ora non è più possibile tornare indietro grazie a dio per farla breve signor von Dorsday ci troviamo di nuovo in una brutta situazione adesso avrebbe una gran voglia di scomparire si tratta di una sciocchezza veramente solo di una sciocchezza signor von Dorsday eppure come scrive mamma è in gioco tutto chiacchiero come un'oca ma si calmi signorina Els questo l'ha detto gentilmente ma non c'era bisogno perciò di toccarmi il braccio dunque di che si tratta propriamente signorina Els che c'è scritto in quella triste lettera della mamma signor von Dorsday papà mi tremano le ginocchia la mamma mi scrive che il papà per l'amor di dio Els che ha non vuole piuttosto qui c'è una panchina posso poggiarle il cappotto sulla spalla fa un po' di fresco grazie signor von Dorsday oh non è nulla veramente nulla di particolare così eccomi ora ad un tratto seduta sulla panchina chi è quella signora che sta passando non la conosco affatto se solo non dovessi continuare a parlare nel modo come mi guarda come hai potuto pretendere questo da me papà non è stato bello da parte tua papà ormai è fatta l'avrai dovuto attendere fino a dopo il dinner allora signorina Els il suo monoculo penzola che faccia da stupido devo rispondergli certo che devo presto dunque purché sia finita che può mai accadermi è un amico di papà addio signor von Dorsday lei è un vecchio amico di casa questo l'ho detto molto bene e probabilmente non si meraviglierà se le racconto che papà si trova di nuovo in una situazione molto critica come risuona strano la mia voce sono io quella che parla sogno forse ora ho sicuramente anche un viso tutto diverso dal solito a dire il vero non mi meraviglio eccessivamente ha proprio ragione cara signorina Els anche se me ne dispiace sinceramente ma perché lo guardo con occhi così supplichevoli sorridere sorridere così va bene sento per suo padre per loro tutti una così sincera amicizia non dovrebbe guardarmi in quel modo è indecente voglio appartargli con un altro tono e non sorridere devo comportarmi più dignitosamente ebbene signor fondorzi adesso le si offrirebbe l'occasione di dimostrare la sua amicizia per mio padre grazie a dio ho ritrovato la mia voce sembra infatti signor fondorzi che la maggior parte dei nostri parenti e conoscenti non sia ancora a Vienna altrimenti mamma non avrebbe certo pensato a lei recentemente in una lettera a mamma ho accennato per caso alla sua presenza qui a San Martino tra l'altro naturalmente ho supposto subito signorina Else che io non rappresento l'unico argomento della sua corrispondenza con sua madre perché premei i ginocchi contro i miei mentre impiai di davanti a me ah non lascio fare ormai quando si è già caduti così in basso la cosa sta allora in questi termini questa volta pare che sia il dottor Fiala a creare a papà particolari difficoltà ah il dottor Fiala evidentemente sa anche lui cosa pensare di questo Fiala sì il dottor Fiala e la somma in questione deve essere pagata il 5 vale a dire dopo domani a mezzogiorno o piuttosto deve essere consegnata nelle sue mani a meno che il barone Hönig pensi che il barone ha mandato a chiamare papà privatamente gli vuole infatti molto bene perché parlo di Hönig non sarebbe stato per nulla necessario vuole dire a esse che in caso contrario nel resto sarebbe inevitabile perché lo dice così duramente non rispondo annuisco soltanto sì eppure ho detto sì certo è grave veramente molto un uomo dotato di grande talento geniale e di che somma si tratta poi in effetti signorina Els ma perché sorride ritiene la situazione grave e sorride che vuol dire col suo sorriso che è indifferente di qualsiasi cifra si tratti e se dice di no mi ammazzo se dice di no dunque devo dire la cifra come signor von dorsday non ho ancora detto quanto un milione perché dico queste cose è proprio il momento di scherzare ma quando poi gli dirò la cifra vera sarà contento come spalanca gli occhi ritiene davvero possibile che papà gli avrebbe chiesto un milione scusi signor von dorsday se scherzo in questo momento non sono davvero in vena di scherzare sì sì premi pure i ginocchi contro i miei tanto te lo puoi permettere non si tratta naturalmente di un milione ma in tutto di 30.000 fiolini signor von dorsday che dopo domani a mezzogiorno dovranno essere nelle mani del dottor fiale sì mamma mi scrive che papà ha fatto tutti i tentativi possibili ma come ho già detto i parenti ai quali ci si potrebbe rivolgere non sono a vena oddio come mi abbasso altrimenti non sarebbe certo venuto in mente a papà di rivolgersi a lei signor von dorsday e anche di pregare a me perché tace perché resta impassibile perché non dice sì dov'è il libretto degli assegni alla penna stilografica per l'amore del cielo non dirà mica di no devo buttarmi in ginocchio ai suoi piedi oddio oddio il 5 ha detto signorina helse grazie a dio parla sì signor von dorsday dopo domani alle 12 sarebbe dunque necessario penso che per lettera difficilmente si arriverebbe in tempo no di certo signorina helse dovremmo risolvere la cosa telegraficamente noi bene molto bene beh questo sarebbe il meno quanto ha detto helse ma l'ha sentito bene perché mi tortura 30.000 signor von dorsday in realtà una somma ridicola perché ha detto questo che stupidaggine ma lui sorride sciocca di una ragazza penserà sorride molto amabilmente papà è salvo gliene avrebbe prestato anche 50.000 e noi avremmo potuto procurarsi ogni specie di cose mi sarei comprata delle camicie nuove come sono volgare così si diventa non proprio così ridicola bambina cara perché dice bambina cara è un buono o cattivo segno come immagina lei anche 30.000 fiorini bisogna guadagnarseli mi scusi signor von dorsday non intendevo dir questo pensavo solo com'è triste che papà a causa di una tale somma una tale inezia addio mi confondo di nuovo non può proprio immaginarsi signor dorsday anche se lei conosce abbastanza le nostre condizioni come sia terribile per me e particolarmente per mamma poggia un piede sulla panchina è un atteggiamento elegante o che significa oh posso bene immaginarlo cara s che strano tono di voce tutta diversa dal solito io stesso ho pensato talvolta peccato peccato è un uomo così geniale perché dice peccato non vuole prestare il denaro no sono solo considerazioni d'ordine generale perché non dice finalmente di sì ancora ritiene che non ci sia bisogno di aiuto come mi guarda perché non continua a parlare ah perché passano le due ungheresi ora almeno sta di nuovo composto non ha più il piede sulla panchina la cravatta è troppo chiara per un uomo piuttosto anziano gliela sceglierà l'amante niente di particolarmente fine detto tra noi scrive mamma trentamila fiorini ma io gli sorrido perché poi sorrido o sono vile e se almeno si potesse supporre di risolvere veramente qualcosa con questa somma mia cara signorina else ma lei è una ragazza così giudiziosa else cosa rappresenterebbero questi trentamila fiorini una goccia d'acqua nel mare oddio non vuole dare il denaro non devo fare un sorriso così spaventato è in gioco tutto ora devo dire qualcosa di assennato e con decisione oh no signor von dorsday stavolta non sarebbe una goccia nel mare il processo erbesheimer è imminente non lo dimentichi signor von dorsday e fin da oggi lo si può considerare vinto lei stesso ha avuto questa impressione signor von dorsday e papà ha anche altri processi e inoltre ho intenzione ma prego di non ridere signor von dorsday di parlare con papà molto seriamente mi stima posso dire che se c'è qualcuno capace di esercitare una certa influenza su di lui queste sono ancora soprattutto io lei è una creatura commovente incantevole signorina else la sua voce è di nuovo un'inflessione così strana come mi ripugna la voce degli uomini quando comincia a tremare in quel modo neanche in fred mi piace una creatura incantevole in vero perché dice in vero edicativo augusto una cosa del genere la si dice solo al burgtheater ma per quanto sia disposto a condividere il suo ottimismo una volta che la barca sa è così malamente arenata ma non è vero signor von dorsday se non credessi in papà se non fossi del tutta convinta che questi trentamila fiolini non so più cosa dire non posso certo chiedergli apertamente l'elemosina riflette evidentemente forse non conosce l'indirizzo di fiola sciocchezze la situazione è insostenibile sto seduta qua come una povera peccatrice mi sta davanti e mi fissa attraverso il monocolo fuorandomi quasi la fronte con lo sguardo e tace ora mi alzerò è la cosa migliore non mi lascio trattare in questo modo papà si uccida pure anch'io mi ucciderò è una menzogna questa vita la cosa migliore sarebbe buttarsi giù da quella roccia e farla finita vi starebbe bene a voi tutti mi alzo signorina Els mi scusi signor von Dorsey se mi sono permessa di importunarla in queste circostanze naturalmente posso capire completamente il suo atteggiamento contrario bene finito me ne vado aspetti signorina Els aspetti dice perché dovrei è disposto a dare il denaro sì certamente deve ah non mi siedo più resto in piedi come se volessi fermarmi solo per mezzo secondo sono un po' più alta di lui non ha ancora atteso che le rispondessi Els già un'altra volta mi scusi Els se lo ricordo a questo proposito dovrebbe finirla a dire così spesso Els mi sono trovato ad aiutare il suo padre a venire fuori da una situazione difficile anche se con una somma ancora più ridicola di quella attuale e non mi sono assolutamente cullato nella speranza di poter mai rivedere quei soldi e così non ci sarebbe in verità alcun motivo per negare questa volta il mio aiuto tanto più se una ragazza giovane come lei Els se la stessa intercede per lui dove voglio arrivare la sua voce non trema più eppure è diversa dal solito perché mi guarda a quel modo stia attento dunque Els sono disposto il dottor Fial avrà dopo domani a mezzogiorno i trentamila fiorini a una condizione non deve continuare non deve signor Ford Dorsday io io personalmente le garantisco che mio padre le restituirà la somma appena avrà ricevuto l'onorario di Herbesheimer gli Herbesheimer finora non hanno ancora pagato neppure in anticipo anche mamma mi scrive lasci stare Els non bisogna mai assumere una garanzia per un'altra persona neppure per se stessi che vuole la sua voce è di nuovo quella strana inflessione nessuno mi ha mai guardata così immagino dove vuole arrivare guai a lui avrei ritenuto possibile un'ora fa che proprio in un caso del genere mi sarei fatto venire in mente di porre una condizione eppure lo faccio sì Els non sono che un uomo e non è colpa mia se lei è così bella Els che vuole che vuole forse oggi o domani le avrei chiesto la stessa cosa che voglio chiederle ora anche se non avesse espresso il desiderio di avere da me un milione pardon trentamila fiorini certo che in altre circostanze non mi avrebbe mai dato l'occasione di parlare così a lungo con lei a quattro occhi l'ho trattenuto veramente troppo signor fondorsday questo l'ho detto bene fred sarebbe contento che succede mi prende la mano che gli salta in mente ma non lo sa già da tempo Els deve lasciare andare la mano oh grazie a dio lo lascia non così vicino non così vicino non dovrebbe essere una donna Els per non essersene accorta je vous désire avrebbe potuto anche dirlo in tedesco il signor visconte devo aggiungere altro ha detto già troppo signor d'osday e sto ancora qua ma perché me ne vado me ne vado senza salutare Els Els ora mi è di nuovo vicino mi scusi Els anche io ho scherzato proprio come l'hai poc'anzi col milione anche la mia richiesta non è così grande come l'hai attemuto purtroppo devo dire sicché quella reale la sorprenderà forse piacevolmente ma la prego si fermi Els mi fermo veramente perché poi ecco che stiamo uno di fronte all'altra non avrei dovuto semplicemente dargli uno schiaffo non sarei ancora in tempo per farlo stanno passando i due inglesi ora sarebbe proprio il momento adatto ma perché non lo faccio sono vive affranta umiliata che vorrà allora invece del milione un bacio forse su questo si potrebbe discutere un milione sta a 30.000 come ci sono strane equazioni se veramente un giorno dovesse aver bisogno di un milione Els non sono certo ricco però potremmo discuterle ma questa volta voglio essere modesto come lei e questa volta non voglio altro Els che vederla ma è pazzo mi vede bene ah è così che l'intende perché non gli do uno schiaffo farà butto sono diventata rossa o pallida nuda mi vuol vedere non vorrebbero parecchi sono bella nuda perché non gli do uno schiaffo ha una faccia enorme perché ti accosti tanto farà butto non voglio sentire il tuo alito sulle mie guance perché non lo pianto in asso mi affascina il suo sguardo ci guardiamo negli occhi come nemici mortali vorrei dargli del farà butto ma non ci riesco o non voglio mi guarda Els come se fossi pazzo forse lo sono un poco poiché da lei Els si sprigiona un fascino di cui lei stessa non si rende ben conto deve sentire Els che la mia preghiera non è un'offesa sì dico preghiera anche se è maledettamente simile a un ricatto ma non sono un ricattatore sono soltanto un uomo che ha molta esperienza e sa tra l'altro che tutto al mondo ha il suo prezzo e colui che regala il suo denaro quando è in condizione di riceverne una contropartita è un matto da legare e quanto a quello che stavolta voglio comprarmi Els per molto che possa essere il venderlo non la priverà di nulla e che ciò resterebbe un segreto tra lei e me glielo giuro Els per per tutte le sue grazie la cui visione mi renderebbe felice dove ha imparato a parlare così sembrano parole tratte da un libro e le giuro anche che non sfrutterò la situazione più di quanto non sia stato previsto nel vostro contratto non pretendo nient'altro da lei che poter stare un quarto d'ora in contemplazione inanzi alla sua bellezza la mia camera si trova sul suo stesso piano Els numero 65 facile da ricordare quel giocatore di tennis svedese di cui parlava oggi non aveva anche 65 anni è pazzo perché permetto che continui a parlare sono paralizzata ma se per un qualsiasi motivo non le piacesse di farmi visita nella stanza numero 65 Els propongo una breve passeggiata dopo il dinner c'è una radura nel bosco l'ho scoperta di recente per puro caso a circa cinque minuti dal nostro hotel sarà una meravigliosa notte d'estate oggi quasi calda e la luce delle stelle la vestirà splendidamente bella come è una schiava gli sputo in faccia non è necessario che mi risponda subito Els ci pensi dopo il dinner mi renderà cortesamente nota la sua decisione perché dice poi renderà nota parola stupida render noto ci pensi con tutta calma si accorgerà forse che non è un semplice affare quello che le propongo e cosa allora parolaio parabutto probabilmente capirà che l'uomo che le parla è piuttosto solo e non tanto felice e forse merita un po' di indulgenza parabutto sdolcinato parla come un attore da strapazzo le sue dita ben curate sembrano artigli no no non voglio ma perché non lo dico ammazzati pure papà che vuoi fare con la mia mano il mio braccio è senza forza porta la mia mano alle labbra labbra ardenti la mia mano è fredda avrai voglia di fargli volar via al cappello come sarebbe ridicolo finito di baciare fare butto le luci dinnanzi all'hotel sono già accese due finestre sono aperte al terzo piano quella dove si muove la tenda è la mia qualcosa luccica sull'armadio non c'è niente sopra saranno le rifiniture in ottone a rivederla dunque esse non rispondo nulla sto lì immobile mi guarda negli occhi il mio volto è impenetrabile non sa nulla non sa se andrò o meno eppure io lo so so solo che tutto è finito sono mezza morta ecco che se ne va un po' curvo fara butto sente il mio sguardo sulla nuca chi saluta ora? due signore saluta come se fosse un conte paul deve sfidarlo a duello e ucciderlo oppure rudi ma chi crede di essere? ma scalzone spudorato mai e poi mai non avrai mai altra scelta papà dovrai uccidermi qui quei due tornano evidentemente da una gita carini entrambi lui e lei avranno ancora tempo di cambiarsi prima del dinner sono sicuramente in viaggio di nozze o forse non sono per nulla sposati non andrò mai in viaggio di nozze trentamila fiorini no 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 non ci sono trentamila fiorini in tutto il mondo andrò da fiala arriverò ancora in tempo pietà pietà dottor fiala con piacere signorina mi usi la cortesia di venire nella mia camera da letto fammi il favore paul chiedi trentamila fiorini a tuo padre di chi ha i debiti di gioco che se non li paghi dovrai spararti volentieri cara cugina ho la camera numero tot ti aspetto verso mezzanotte oh signor von dorsley com'è modesto lei per il momento ora si cambia smoking dunque decidiamoci prato al chiar di luna o stanza numero 65 mi accompagnerai in smoking nel bosco c'è ancora tempo per il dinner passeggiare un po' ed esaminare con calma la situazione sono vecchio e solo aria divina come lo champagne non fa più fresco 30.000 30.000 fiorini a quel signore laggiù al margine del bosco piaccio evidentemente moltissimo oh signore nuda sono ancora più bella e costa un prezzo irrisolio 30.000 fiolini può portare forse i suoi amici così le viene di meno spero che abbia tutti amici carini più carini e più giovani del signor von dorsley conosce il signor dorsley è un farabutto un brillante farabutto dunque riflettere riflettere è in gioco una vita umana la vita di papà ma no non si ammazzerà si farà piuttosto mettere in carcere tre anni di carcere duro o cinque sono già cinque o dieci anni che vive in questa eterna paura denaro pupillare e mamma lo stesso e io anche per chi dovrò spogliarmi la prossima volta o per semplicità continuiamo a farlo per il signor dorsley la sua quale amante non è nulla di fine detto tra noi preferirebbe certo me ma chi può affermare che io sia molto più fine non si dia delle arie signorina S potrei raccontare delle storielle su di lei un certo sogno per esempio che lei ha già fatto tre volte del quale non ha parlato neppure alla sua amica Berta eppure quella è abituata a sentirne di tutti i colori e che dire poi di quest'anno a Gmunden alle sei del mattino sul balcone mia nobile signorina Else non ha forse per nulla notato i due giovani in barca che la fissavano il mio volto non l'hanno certamente potuto riconoscere dal lago ma si sono ben accorti che ero in camicia e mi ha fatto piacere più che piacere più che piacere ero come neppriata mi sono passate le mani sui fianchi e con me stessa ho fatto finta di non sapere che mi si vedeva e la barca non si è mossa di un palmo sì questa sono io questa sono io una carogna sì lo sentono tutti anche Paul lo sente naturalmente è un ginecologo anche il sottotenente di Vacello l'ha sentito e anche il pittore solo Fred quello stupido non lo sente è per questo che mi ama ma proprio davanti a lui non vorrei stare nuda mai e poi mai non proverei alcun piacere mi vergognerei ma davanti alla canaglia con la testa di antico romano come mi piacerebbe più che davanti a ogni altro anche se poco dopo dovessi morire ma non è affatto necessario morire subito dopo a questo si sopravvive Berta è sopravvissuta più di una volta ci si sarà certamente anche nuda quando Paul entra furtivamente da lei attraversando i corridoi dell'hotel come entrerò io stanotte dal signor Von Dorsday no no non voglio da qualunque altro ma non da lui magari da Paul oppure me ne scelgo uno stasera durante il dinner tanto fa lo stesso ma non posso certo dire ad ognuno che pretendo 30.000 fiorini in compenso allora sarai proprio come una di quelle della Kempnerstrasse no non mi vendo mai non mi venderò mai mi dolerò si si se una volta incontro l'uomo che fa per me mi dono ma non mi vendo sarà una carogna ma non una squadrina si è ingannato il signor Von Dorsday e papà anche si 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 è ingannato deve averlo sicuro previsto conosco bene gli uomini conosco pure il signor Von Dorsday se lo sarà ben immaginato che il signor Dorsday non avrebbe dato nulla per nulla altrimenti avrebbe potuto telegrafare o sarebbe venuto lui stesso ma così era più comodo e più sicuro non è vero papà quando si ha una figlia così carina che bisogno c'è di andare a passeggiare in carcere e la mamma stupida con me si siede a tavolino e mi scrive quella lettera papà non ne ha avuto il coraggio avrei dovuto capirlo subito ma non ci riuscirete no hai speculato con troppa sicurezza sul mio affetto filiale papà hai contato troppo sul fatto che avrai tollerato qualsiasi bassezza piuttosto che lasciarti subire le conseguenze della tua delittuosa leggerezza hai un genio tu il signor Von Dorsday lo dice tutti lo dicono ma a chi mi serve fiala è una nullità ma non si appropria indebitamente di denaro pupillare perfino Waldheim non può essere paragonato a te chi l'ha detto il dottor Froriepp suo padre è un genio e io l'ho sentito parlare solo una volta l'anno scorso nell'aula della corte d'assise per la prima e l'ultima volta magnifico le lacrime mi scorrevano giù per le guance l'ignobile individuo che ha difeso è stato assolto forse non era per nulla un individuo così ignobile comunque aveva solo rubato e non sarà appropriato indebitamente di denaro pupillare per giocare a baccarà e speculare in borsa e ora sarà papà a comparire davanti ai giurati lo si leggerà in tutti i giornali seconda udienza terza udienza il difensore si alzò per rispondere chi sarà mai il suo difensore nessun genio niente potrà essergli d'aiuto colpevole all'unanimità condannato a cinque anni galera vestito da detenuto capelli rasati una volta al mese è permesso fargli visita vado a trovarlo con mamma biglietto di terza classe non abbiamo soldi nessuno ci presta nulla piccolo appartamento nella Lerchenfeldstrasse come quello della cucitrice che sono andata a trovare dieci anni fa mi portiamo qualcosa da mangiare ma dove lo prendiamo se non abbiamo nulla neppure per noi stessi il suo Victor ci assegnerà una rendita 300 fiorini al mese Rudy sarà in Olanda presso Vanderlust se lo prenderanno ancora in considerazione i figli del Galeotto romanzo giallo in tre volumi papà ti riceve nel vestito a strisce dei detenuti non ha uno sguardo cattivo solo triste non è proprio capace di avere uno sguardo cattivo S se allora mi avessi procurato il denaro penserà ma non dirà nulla non avrà l'animo di farmi dei rimproveri in fondo è buono solo che è sventato la passione del gioco gli è fatale ma non ne ha colpa è una forma di pazia forse forse lo assolveranno perché è pazzo anche per quanto riguarda la lettera non ci ha riflettuto prima forse non gli è neppure venuto in mente che Dorsday potesse profittare dell'occasione e pretendere da me una simile bassezza è un buon amico di casa nostra ha già prestato una volta 8000 fiorini a papà come ci può pensare una cosa simile di una persona sicuramente papà ha tentato prima tutte le altre strade che cosa non deve aver passato prima di indurre mamma a scrivere quella lettera è corso da uno all'altro da Warsdorf a Burin da Burin a Wertheimstein e Dio sa ancora a chi sicuramente è stato anche dallo zio Carl e tutti l'hanno abbandonato tutti i cosiddetti amici e ora Dorsday è la sua speranza la sua ultima speranza e se il denaro non arriva si ammazza è naturale che si ammazzi non si lascerà certo mettere dentro detenzione preventiva dibattimento corte d'assise carcere vestito da detenuto no 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 quando sarà emesso il mandato di cattura si sparerà oppure si impiccherà penzolerà nel vano della finestra qualcuno verrà ad avvisare dalla casa di fronte ti sarà bisogno del fabbro per aprire e la colpa sarà stata mia e ora siade insieme con la mamma nella stessa stanza dove dopo domani penzolerà e fuma una vana dove li prende ancora gli avana lo sento parlare mentre tranquillizza mamma non debitare Dorsday invierà denaro considera anche che quest'inverno gli ho fatto recuperare una grossa somma col mio intervento e poi ci sarà il processo Herbesheimer davvero lo sento parlare telepatia strano in questo momento vedo anche Fred sta passando con una ragazza davanti al Cours Salon nel parco comunale essa ha una camicetta azzurra e scarpe chiare ed è un po' rauca lo so con tutta certezza quando torno a Vienna domanderò a Fred se il 3 settembre tra le 7 e mezzo e le 8 di sera era nel parco comunale con la sua amante dove andare ora che mi succede quasi completamente buio com'è bello e tranquillo non si vede neppure un'anima ora sono già tutti a tavola telepatia no non è telepatia ho sentito il gong poco prima dov'è Els penserà Paul ma non sarò lì per l'antipasto se ne accorgeranno tutti mi manderanno a chiamare in camera che succede a Els è sempre così puntuale anche i due signori presso la finestra penseranno dov'è oggi quella bella ragazza giovane dai capelli biondo rossicci e il signor Fondosdi avrà paura è sicuramente vile si calmi signor Fondosdi non le accadrà nulla la disprezzo troppo se volessi domani sera sarebbe un cadavere sono convinta che Paolo sfiderebbe a duello se gli raccontassi la cosa le regalo la vita signor Fondosdi come sono enormemente lontani i prati e gigantescamente neri i monti quasi nessuna stella ma si tre e quattro aumentano è così calmo il bosco alle mie spalle è bello essere seduta qui sulla banchina al limitare del bosco così lontano lontano è l'hotel e così fiabescamente illuminato e che farabutti si sono dentro ma no uomini poveri uomini mi fanno tutti così pena anche la marchesa mi fa pena non so perché e la signora Punever è la governante della bambina di Cissi non si è dalla tabla d'hotel ha mangiato già prima con i frizzi ma che ha Else domanderà Cissi come non è neppure nella sua camera sicuramente tutti avranno paura che mi sia capitato qualcosa solo io non ho paura sì sono a San Martino di Castrozza sto seduta su una panchina all'imitare del bosco e l'aria è come lo champagne e mi sembra addirittura che piango sì ma perché piango non c'è motivo di piangere sono i nervi devo dominarmi non posso lasciarmi andare così ma piangere non è affatto spiacevole piangere mi fa sempre bene quando sono andata a trovare in ospedale la nostra vecchia governante francese che poi è morta ho anche pianto e ai funerali della nonna quando Berta è partita per Norimberga e quando è morto il piccolo di Agate e a teatro quando hanno dato la signora delle camelie ho anche pianto chi piangerà quando sarò morta io oh come sarebbe bello essere morta giaccio composta nel salone le candele ardono lunghe candele dodici lunghe candele di sotto attende già il carro funebre c'è gente davanti al portone di casa ma quanti anni aveva solo diciannove veramente solo diciannove pensi suo padre è in carcere ma perché si è uccisa a causa di un amore infelice per una canaglia ma che ne salta in mente aspettava un bambino no è precipitata dal cimone è stata una disgrazia buongiorno signor Doldi rende alla piccola Else anche le estreme onoranze piccola Else dice la vecchia perché è naturale che le renda gli estremi onori dal momento che le ho causato anche il primo disonore oh valeva la pena signora Winnever non ho mai visto un corpo così bello mi è costato solo 30 milioni Rubens costa tre volte tanto si è avvelenata con l'ascis voleva avere solo delle belle visioni ma ne ha preso troppo e non si è svegliata più ma perché il signor Doldi ha un monocolo rosso e chi facendo col fazzoletto mamma scende le scale e gli bacia la mano bah ah adesso parlano sottovoce tra loro non riesco a capire nulla perché sono composta nella bara la corona di viole attorno al mio capo e di paul i nostri cadono fino a terra nessuno osa entrare nella stanza è meglio che mi alzo e vado alla finestra che gran lago azzurro centinaia di navi con vele gialle le onde scintillano quanto sole regata gli uomini sono tutti in canottiera le donne in costume da bagno ma è indecente credono che sia nuda come sono stupidi sono vestita a lutto perché sono morta ve lo proverò mi rimetto subito nella bara ma dov'è è sparita l'hanno portata via se ne sono appropriati indebitamente perché papà è in carcere eppure mi hanno dato tre anni con la condizionale i giurati sono stati tutti corrotti da fiala ora andrò a piedi al cimitero così mamma risparmia il funerale ci dobbiamo limitare nelle spese cammino così in fretta che nessuno riesce a tenermi dietro ah come corro per la strada tutti si fermano e si meravigliano come si fa a guardare così una morta è indiscreto preferisco camminare per i campi tutti azzurri di miosotidi e violette gli ufficiali di marina fanno ala buongiorno signori apro la porta signor matador non mi riconosce sono la morta non deve per questo baciarmi la mano ma dov'è la mia tomba hanno sottratto anche quella grazie a dio non è affatto il cimitero è il parco di mentone papà sarà contento che non sono stata sepolta non ho paura dei serpenti purché non mi mordano i piedi ahi che cosa è successo dove sono mai ho dormito sì ho dormito devo addirittura aver sognato ho tanto freddo ai piedi ho il piede destro ghiacciato come mai vicino al malleolo c'è un piccolo strappo nella calza perché sono ancora seduta nel bosco devono aver suonato già da tempo per il dinner dinner oddio dove ero mai ero così lontano che ho sognato mi è parso di essere già morta e non avevo preoccupazioni e non dovevo scervellarmi 30.000 30.000 non le ho ancora me li devo prima guadagnare e sono seduta qui sola all'imitare del bosco le luci dell'hotel arrivano fino a qui devo ritornare è terribile il dover ritornare ma non c'è più tempo da perdere il signor fondosdei aspetta la mia decisione 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 no 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 signor fondosdei insomma no hai scherzato signor fondosdei si capisce sì così gli dirò oh benissimo il suo scarso non è stato molto fine signor fondosdei ma le perdono domani mattina comunicherò telegraficamente a papà che il denaro perverrà puntualmente nelle mani del dottor fiala meraviglioso però era proprio in questi termini così non gli resterà altro da fare dovrà mandare il denaro dovrà perché mai dovrà e anche se lo facesse si vendicherebbe poi in qualche modo farebbe sì che il denaro giunga troppo tardi oppure manderebbe il denaro e racconterebbe poi a tutti che mi ha avuta ma non lo manderà affatto no signorina Else questi non erano i nostri patti telegrafici pure a suo padre quel che le pare io il denaro non lo mando non crederà mica signorina Else che mi lasci gabbare da una ragazzina io il visconte di a pie devo fare attenzione nel camminare la strada è completamente buia strano mi sento meglio di poco fa non è cambiato proprio nulla eppure mi sento meglio che ho mai sognato un matador quale matador eppure l'hotel è più lontano di quanto pensassi certamente non sono tutti a tavola mi siederò tranquillamente dirò che ho avuto un'emicrania e mi farò servire il pranzo il signor Fondolti verrà infine lui stesso da me e mi dirà che tutto è stato solo uno scherzo perdoni signorina Else perdoni il cattivo scherzo ho già telegrafato alla mia banca ma non lo dirà non ha telegrafato è tutto ancora come prima è in attesa il signor Fondolti è in attesa no non voglio vederlo non posso più vederlo non voglio vedere più nessuno non voglio più rientrare all'hotel non voglio più tornare a casa non voglio tornare a Vienna non voglio andare da nessuno da nessuno né da papà né da mamma né da Rudy né da Fred né da Berta né da zia Irene quella è ancora la migliore capirebbe tutto ma non ho più nulla a che fare con lei né con nessun altro se potessi fare miracoli sarà in tutt'altra parte del mondo una magnifica nave nel mar Mediterraneo ma non sola con Paul per esempio sì posso immaginarvelo molto bene oppure abiterei in una villa sul mare e staremmo sdraiati sui gradini di marmo che scendono fin nell'acqua lui mi terrebbe stretta nelle sue braccia e mi morterebbe le labbra come fece Albert due anni fa vicino al pianoforte quello sfacciato no vorrei starne sdraiata sola sui gradini di marmo presso il mare e aspettare e finalmente verrebbe uno o parecchi potrei scegliere e quelli che rifiuterai si butterebbero tutti in mare per disperazione oppure dovrebbero avere pazienza fino all'indomani che vita deliziosa sarebbe mai quella a che scopo ho le mie magnifiche spalle e le mie belle gambe snelle a che scopo sono infine al mondo e se lo meriterebbero loro tutti mi hanno educata in modo tale che dovrò vendermi in un modo o nell'altro della carriera d'attrice non ne hanno voluto sentir parlare ne hanno presa in giro e l'anno scorso sarebbero stati lieti se avessi sposato il direttore Vilomitzer che ha quasi 50 anni ci mancava solo che mi incoraggiassero papà si sentiva a disagio mia mamma ha fatto delle allusioni molto precise com'è gigantesco l'hotel com'è un enorme castello incantato illuminato tutto è così gigantesco anche le montagne ci sarebbe da aver paura non sono state mai così nere la luna non c'è ancora sorgerà solo per la rappresentazione per la grande rappresentazione sul prato quando il signor von Dostey farà danzare la sua schiava nuda ma che mi importa del signor Dostey allora mademoiselle Else che storie sono mai queste non era già pronta a scappare a diventare l'amante di uomini sconosciuti uno dopo l'altro e ora si tira indietro per l'inezia che le chiede il signor von Dostey per un vezzo di perle dei bei vestiti una villa al mare è disposta a vendersi e la vita di suo padre non vale altrettanto per lei sarebbe proprio l'inizio giusto costituirebbe poi la giustificazione per tutto il resto ed è stati voi potrei dire che mi avete messo in queste condizioni voi tutti avete colpa se sono diventata quella che sono non solo papà e mamma anche Rudy ne ha colpa è fredda tutti tutti poiché nessuno sicura di te un po' di tenerezza quando si è carina un po' di apprezzione quando si ha la febbre ti mandano a scuola e a casa si impara a suonare il piano e il francese l'estate si va in campagna per il compleanno ti fanno dei regali e a tavola parlano di ogni genere di cose ma di quel che ha in me di quel che d'angoscioso sagita in me vi siete mai preoccupati talvolta nello sguardo di papà c'era un'ombra di comprensione ma molto fuggevole poi subito dopo era di nuovo tutto preso dalla professione dalle preoccupazioni dal gioco in borsa e probabilmente dal pensiero di qualche amore segreto niente di molto fine detto tra noi e io ero di nuovo sola ebbene che faresti papà che faresti oggi se non ci fossi qua io eccomi qua sì eccomi davanti all'hotel è terribile il dover entrare veder tutta la gente il signor fondosdi la zia cissi com'era bello prima sulla panchina all'imitare del bosco quando ero già morta matador se solo potesse ricordare ma certo c'era una regata e io guardavo dalla finestra ma chi era il matador se solo non fossi così stanca così terribilmente stanca e così dovrei restare alzata fino a mezzanotte e entrare furtivamente nella camera del signor fondosdi forse incontrerò cissi nel corridoio avrà qualcosa sotto la vestaglia quando vada lui è difficile regolarsi quando non si è pratica in queste cose non dovrei forse chiedere consiglio a cissi naturalmente non direi che si tratta di dosdi ma dovrebbe credere che ho un appuntamento notturno con un qualche bel giovane dell'hotel per esempio con quello alto e biondo dagli occhi splendenti ma non è più qua improvvisamente è scomparso pure non avevo affatto pensato a lui prima d'ora ma purtroppo non si tratta del giovane alto e biondo dagli occhi splendenti e neppure di paul si tratta ma del signor fondosdi allora come faccio che gli dico semplicemente sì ma non posso andare nella camera del signor dosdi avrà sicuro molte boccette eleganti sul lavandino e la camera odorerà di profumo francese no per nulla al mondo andrò da lui meglio l'aperto e non mi importerà nulla di lui il cielo è così alto il prato così grande non dovrò affatto pensare al signor dosdi non dovrò neppure guardarlo e se osasse toccarmi si prenderebbe un calcio dai miei piedi nudi se solo fosse un altro qualsiasi altro ogni altro potrebbe avere tutto tutto da me questa notte ma dorsley no è proprio lui proprio lui come pungeranno e penetreranno i suoi occhi se ne starà là col monocolo e sogghignerà ma non sogghignerà farà un viso distinto elegante è certo abituato a cose del genere quante ne avrà già viste così cento o mille ma ce ne sarà mai stata una come me no certamente no gli dirò che non è il primo che mi vede così gli dirò che ha un amante ma solo quando siano stati spediti i trentamila fiorini a fiala allora gli dirò che è stato un matto che per la stessa somma avrebbe potuto anche avermi che ho già avuto dieci amanti venti cento ma non mi crederà e anche se mi credesse e che mi gioverebbe se solo potessi guastargli il piacere in qualche modo se fosse presente anche un altro perché no non ha mica detto che vuole essere solo con me ah signor von dorsley ho una tale paura di lei non mi permetterebbe di condurre con me un vecchio conoscente ciò non contraddice assolutamente i patti signor von dorsley e se ne avessi voglia potrei invitare tutto l'hotel e lei sarebbe non di meno costretto a spedire i trentamila fiorini ma mi contenterò di condurre con me mio cugino paul o preferisce forse qualche altro il giovane alto e biondo purtroppo non è più qui nella canaglia con la testa di antico romano neppure ma ne troverò certo un altro teme l'indiscrezione non è questo che importa non do alcun valore alla discrezione quando ci sia ridotti come me tutto arrasto indifferente oggi è semplicemente l'inizio o pensa che dopo questa avventura ritornerò a casa come una ragazza per bene di buona famiglia no né buona famiglia né ragazza per bene tutto questo non esiste più per me adesso mi fiderò delle mie gambe ho belle gambe il signor von dorsley come lei e gli altri partecipanti alla festa avranno fra poco occasione di notare dunque siamo d'accordo signor von dorsley alle dieci mentre tutti saranno ancora nella hall cammineremo al chiar di luna sul prato attraverso il bosco verso quella famosa radura da lei scoperta in ogni caso porti con sé il telegramma per la banca poiché una garanzia devo ben pretenderla da un furfante come lei a mezzanotte potrà ritornare a casa mentre io resterò nel prato al chiar di luna con mio cugino o chiunque sia non ha nulla in contrario signor von dorsley non ne ha affatto il diritto e se domantina per caso dovesse essere morta non se ne preoccupi più sarà allora paul a fare il telegramma a questo si provvederà ma non si illuda per l'amor di dio essere stato là miserabile ma scalzone ad avermi spinto al suicidio so già da tempo che finirò così domandi pure al mio amico fred se non glielo già detto diverse volte fred il signor friedrich wenkheim detto per inciso l'unica persona corretta che abbia conosciuto in vita mia l'unico che avrei amato se non fosse appunto così a modo sì sono una creatura così abietta non sono fatta per una vita borghese e non ho nessun talento tanto la cosa migliore per la nostra famiglia sarebbe che si estinguesse a Rudy capiterà anche qualche guaio si coprirà di debiti per una canzonettista olandese e sottrarrà soldi a Evanderhulst così vanno le cose nella nostra famiglia un fratello minore di mio padre si è sparato a quindici anni nessuno sa perché io non l'ho conosciuto si faccia mostrare la fotografia signor Van Dostey l'abbiamo in un album pare che io gli somigli nessuno sa perché si è ucciso e nessuno saprà neppure perché mi sia uccisa io in nessun caso per colpa sua signor Van Dostey questo onore non glielo faccio a diciannove o a ventuno è indifferente oppure dovrei fare la bambinaia o la telefonista o sposare il signor Vilomitzer o farmi mantenere da lei è tutto parimenti disgustoso e non verrò affatto con lei sul prato no è troppo faticoso troppo stupido troppo ripugnante quando sarò morta vorrà certo avere la bontà di spedire quelle poche migliaia di fiorini per papà perché sarebbe troppo triste se lo arrestassero proprio il giorno in cui portano la mia salma a Vienna ma lascerò una lettera con disposizioni testamentarie il signor Van Dostey ha diritto di vedere il mio cadavere il mio bel cadavere nudo di ragazza così non potrà dire che l'ho ingannato il signor Van Dostey avrà una contropartita per il suo denaro nel nostro contratto non c'è scritto che devo essere ancora viva no non è scritto in nessuna parte dunque lascio al mercante d'arte Dostey la contemplazione del mio cadavere e al signor Fred Venkheim il mio diario di quando avevo diciassette anni dopo ho smesso di scriverlo e alla governante della bambina di Cissi le cinque monete da venti franchi che anni fa portai dalla Svizzera sono nella scrivania accanto alle lettere e a Berta lascio il vestito da seta nero ad Agate i miei libri e a mio cugino Paul un bacio sulle mie labbra pallide e a Cissi la mia racchetta perché sono generosa e mi si deve seppellire subito qui a San Martino di Castrozza nel piccolo bel cimitero non voglio più tornare a casa neppure da morta voglio più ritornare e papà e mamma non si affliggano io starò meglio di loro e li perdono tanto la mia vita non vale molto che strano testamento sono veramente commossa e penso che domani a quest'ora mentre gli altri staranno a tavola sarò morta Zemma naturalmente non scenderà per il dinner e neanche Paul se lo faranno servire in camera sarai curiosa di sapere come si comporterà Cissi solo che purtroppo non lo verrò a sapere non potrò sapere più nulla forse ci si accorge ancora di tutto fin quando non si è sepolti e se fosse solo una morte apparente quando il signor Von Dorsday si avvicina al cadavere mi risveglio e spalanco gli occhi così lascerà cadere il monocolo per lo spavento ma purtroppo niente di tutto ciò è vero non sarà morta apparentemente neanche realmente non mi ucciderò affatto sono fin troppo vile anche se sono una coraggiosa scalatrice vile lo sono lo stesso e forse non ho neppure abbastanza veronal quante cartine ci vogliono sei mi pare ma con dieci è più sicuro credo che ce ne siano ancora dieci sì basteranno quante volte sono che giro attorno all'hotel allora che faccio eccomi davanti al portone nella hall non c'è ancora nessuno naturalmente sono ancora tutti a tavola ha un aspetto strano la hall così vuota c'è un cappello su questa sedia un cappello da alpinista molto chic ornato da un bel pennellino di peli di camoscio là nella poltrona è seduto un signore anziano probabilmente non ha più appetito legge il giornale lui sì che sta bene non ha preoccupazioni legge tranquillamente il giornale e io devo scelvellarmi per cercare il modo di procurare a papà trentamila fiorini ma no so bene come è così terribilmente facile ma che voglio che voglio che sto a fare qui nella hall tra breve saranno tutti di ritorno dal dinner che devo fare allora il signor fondosdey sarà sicuro sulle spine dove sarà pensa vuoi vedere che si è uccisa oppure ingaggia qualcuno che uccida me o istiga contro di me il cugino paul non abbia paura signor fondosdey non sono così pericolosa sono solo una piccola carogna niente di più per la paura avuta riceverà anche il suo compenso mezzanotte camera numero 65 all'aperto sarebbe forse troppo fresco per me e uscendo da lei signor dosdey andrò direttamente da mio cugino paul non avrà certo nulla in contrario vero signor dosdey else else come cosa ma è la voce di paul il dinner è già finito else ah paul che c'è paul mi mostro del tutto innocente ma dove ti sei cacciata else dove dovrei essermi cacciata sono andata a passeggio adesso durante il dinner e quando se no è proprio l'ora migliore per passeggiare dico sciocchezze mamma non sapeva più a che pensare sono salito su ho bussato alla tua porta non ho sentito nulla ma senti else come puoi farci stare così in pensiero avresti almeno potuto avvertire mamma che non saresti scesa per il dinner hai ragione ma se sapessi che mal di testa ho avuto parlo molto languidamente bella carogna che sono stai almeno meglio adesso veramente non lo potrei dire prima di tutto voglio informare mamma un momento paul non ancora scusami con la zia voglio andare per qualche minuto in camera per mettermi un po' in ordine poi verrò giù e mi farò servire qualcosa fai così pallida else devo farti venire su mamma ma non fa storie paul e non guardarmi così non hai mai visto una donna col mal di testa scenderò sicuramente al più tardi fra dieci minuti ciao paul arrivederci else grazie a dio se ne va stupido ma gentile ma che vuole da me il portiere come un telegramma grazie quando è arrivato signor portiere un quarto d'ora fa signorina ma perché mi guarda così così con compassione per l'amor del cielo quali notizie conterrà mai l'aprirò solo quando sarò di sopra se non contiene nessuna brutta notizia mi sacrificherò farò la bambinaia accetterò un posto in ufficio non essere morto papà sono pronta farò tutto ciò che vuoi grazie a dio eccomi di sopra luce luce si è fatto fresco la finestra è stata troppo tempo aperta coraggio coraggio forse c'è scritto che la cosa si è risolta forse il zio Bernard ha dato il denaro e ora mi telegrafono non parlare con Doste lo vedremo subito ma se guardo il soffitto non potrò naturalmente leggere ciò che hai scritto nel telegramma tra l'allero tra l'allà coraggio bisogna leggerlo scongiurati nuovamente parlare Doste somma non più trenta ma cinquanta altrimenti tutto vano indirizzo sempre fiala ma cinquanta altrimenti tutto vano alala tra l'allà cinquanta indirizzo sempre fiala ma sicuro cinquanta o trenta che importa nemmeno il signor Von Doste importa il veronale sotto la biancheria per ogni avvenienza perché non ho detto subito cinquanta pure se avevo pensato altrimenti tutto vano dunque giù di corsa non restare a sedere sul letto un piccolo errore signor Von Doste mi scusi non trenta ma cinquanta altrimenti tutto vano indirizzo sempre fiala ma lei mi prende in giro signorina Els niente affatto signor Visconte come potrei per cinquanta dovrei in ogni caso esistere di più signorina altrimenti tutto vano indirizzo sempre fiala come desidera signor Von Doste prego ordini pure prima di tutto però scriva il telegramma per la sua banca altrimenti non ho alcuna garanzia sì farò così andrò nella sua stanza e solo quando avrà scritto il telegramma davanti ai miei occhi e mi spoglierò e il telegramma lo terrò in mano io che disgusto e dove dovrò appoggiare i vestiti no no mi spoglierò già qui e indosserò il grande mantello nero che mi avvolge tutta è la soluzione più comoda per tutte e due indirizzo sempre fiala mi battono i denti la finestra è ancora aperta chiusa all'aperto ne sarai potuta morire farà butto 50.000 non potrà dire di no camera 65 ma prima dirò a Paul che dovrà aspettarmi nella sua stanza dopo essere stata da Doste andrò direttamente da Paul e gli racconterò tutto e poi Paul dovrà scaffeggiarlo sì stanotte stessa un programma vario e poi seguirà il vero nal no perché poi perché morire neppure per sogno allegra allegra la vita comincia solo ora avrete la vostra soddisfazione sarete fieri della vostra figlioletta voglio diventare una donna così dissoluta come se ne sono viste poche finora al mondo indirizzo sempre fiala avrai i tuoi 50.000 fiorini papà ma con i prossimi che mi guadagnerò mi comprerò delle camicie da notte nuove ornate di merletti tutte trasparenti e magnifiche calze di seta si vive una volta sola ma che pro avere un aspetto attraente come il mio luce accendo la lampada sopra lo specchio come sono belli i miei capelli biondo rossi e le mie spalle i miei occhi non sono neanche brutti oh come sono grandi sarebbe un peccato per il vero nalcio è sempre tempo ma ora devo scendere giù fino in fondo il signor Dostay aspetta e non sa nemmeno che nel frattempo sono diventati 50.000 sì sono aumentata di prezzo il signor Fondosday devo mostrargli il telegramma altrimenti potrebbe non credermi e pensare che voglio sfruttare l'occasione vi manderò il telegramma in camera e vi aggiungerò due parole con mio profondo rincrescimento sono diventati ora 50.000 il signor Fondosday ma questo non ha importanza per lei e sono convinta che la sua richiesta di compenso era uno scherzo poiché lei è un visconte un gentiluomo la mattina manderà senz'altro a Fiala i 50.000 da cui dipende la vita di mio padre ci conto certamente signolina spedisco subito 100.000 per ogni eventualità senza pretendere alcuna contropartita e inoltre mi impegno a provvedere da oggi in poi al sostentamento di tutta la sua famiglia a pagare i debiti di suo papà e a risercire tutto il denaro pupillare defraudato indirizzo indirizzo sempre Fiala si è proprio così che si comporterà il visconte di Epier tutte stupidaggini che mi resta allora da fare non c'è scampo bisogna che lo faccia bisogna che faccia tutto ciò che il signor Fondosday pretende perché domani papà abbia il denaro perché non venga incarcerato perché non si uccida e lo farò sì lo farò sebbene sia tutto inutile fra sei mesi saremo di nuovo nelle stesse condizioni di oggi fra un mese ma allora non me ne importerà più di nulla farò solo questo sacrificio poi basta mai 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 più sì così dirò a papà non appena tornerò a Vienna e poi via di casa non importa dove mi consiglierò con Fred è l'unico che mi voglia veramente bene ma non sono ancora a questo punto non sono a Vienna sono ancora a San Martino di Castrozza e non è ancora accaduto nulla dunque come come cosa ecco il telegramma che faccio col telegramma prima lo sapevo devo mandarglielo in camera e poi devo aggiungervi qualcosa ebbene cosa devo scrivergli mi aspetti a mezzanotte no 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 questo trionfo non lo avrà non voglio non voglio non voglio meno male che ho qui le cartine sono l'unica salvezza ma dove sono per l'amor di dio non me le avranno mica rubate ma no eccole qua nella scatola ci sono tutte sì tutte una due tre quattro cinque sei le voglio solo guardare le cari cartine e che non mi obbliga certo a ingerirle anche il fatto che le versi nel bicchiere non costituisce alcun obbligo una due ma sicuramente non mi ucciderò non mi passa neppure per la mente tre quattro cinque e poi non bastano mica per morire sarebbe terribile se non avessi il veronal con me dovrai buttarmi dalla finestra e non ne avrai certo il coraggio ma col veronal ci si addormenta lentamente non ci si sveglia più nessuno strazio nessun dolore ci si stende sul letto lo si beve d'un fiato si sogna e tutto è finito l'altro ieri ho preso anche una cartina e di recente addirittura due shhh non dirlo a nessuno oggi sarà semplicemente un po' di più e solo per ogni avvenienza se dovessi provare troppo troppo ribrezzo ma perché dovrai poi provare ribrezzo se mi tocca gli sputa in faccia molto semplice ma come posso fargli capitare la lettera non posso mica mandare una lettera al signor von dorsdey per la cameriera la cosa è migliore scendo parlo con lui e gli mostro il telegramma devo scendere in ogni caso non posso mica restare quassù in camera non ce la farei proprio tre ore finché viene il momento devo scendere anche per la zia che mi importa della zia che mi importa della gente guardino signore e signori ecco il bicchiere col veronal bene ora lo prendo in mano così e lo porto alle labbra sì da un momento all'altro posso trovarmi dall'altra parte dove non ci sono zie nessun dorsdey e nessun padre che si appropria indebitamente di denaro pupillare ma non mi ucciderò non è necessario non andrò neppure nella camera del signor von dorsdey nemmeno per sogno né per 50.000 fiorini mi mostrerò nuda a un vecchio viver per salvare un mascalzone dal carcere no 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 o mi dai soldi o niente come ha fatto a pensarsi il signor von dorsdey proprio lui se mi vede uno mi potranno vedere anche altri sì magnifica idea tutti mi potranno vedere tutto il mondo potrà vedermi e poi verrà il veronal no non il veronal a che scopo poi poi verrà la villa coi gradini di marmo e beh i giovinotti e la libertà e il gran mondo buonasera signorina S così mi piace giù crederanno che sia impazzita ma non sono stata mai così ragionevole per la prima volta in vita mia sono veramente ragionevole tutti dovranno vedermi poi non ci sarà più alcun ritorno nessun rientro a casa da papà e mamma agli zii e zie allora non sarò più la signorina Else che si vorrebbe prostituire a un qualunque direttore vilomitzer così mi farò beffa di tutti principalmente di quel farabutto di dorsdey e rinascerò altrimenti tutto vano indirizzo sempre fiala non perdere più tempo non essere di nuovo vile giù il vestito chi sarà il primo tuo cugino paul è una fortuna per te che la testa di antico romano non è più qua bacerai questi bei seni stanotte come sono bella berta ha una camicia di seta nera affinata ma io sarò ancora più raffinata vita magnifica via le calze sarebbe indecente nuda tutta nuda come mi inviderà Cissi e anche tante altre ma non ne hanno il coraggio lo vorrebbero così volentieri prendetemi come esempio io la vergine trovo il coraggio riderò di dosdei fino a morirne eccomi signor von dosdei presto alla posta cinquantamila non vale forse tanto lo spettacolo bella sono bella guardami o notte guardatemi o monti guarda o cielo come sono bella ma voi siete ciechi che ne ho da voi quelli di sotto hanno occhi devo sciogliermi i capelli no sembrerei una pazza ma non dovrete pensare che sia pazza dovrete solo pensare che sia sfacciata che sia una canaglia dov'è il telegramma oddio dove ho messo il telegramma eccolo qua tranquillo accanto al veronal scongiurati nuovamente cinquantamila altrimenti tutto vano indirizzo sempre fiala sì questo è il telegramma un pezzo di carta e delle parole spedito a vienne alle 4 e 30 no non sogno è tutto vero e a casa aspettano i cinquantamila fiorini e anche il signor fondosdei aspetta e che aspetti pure abbiamo tempo come è bello andare così nuda su e giù per la camera sono veramente così bella come nello specchio si avvicini pure bella signorina voglio baciare le sue labbra rosso sangue voglio premere i suoi seni contro i miei peccato che ci sia quel vetro tra di noi quel vetro freddo come andremmo d'accordo noi due non è vero non avremmo bisogno di nessun altro forse non c'è proprio più nessuno ci sono telegrammi e hotel e monti e stazioni e boschi ma gente non ce n'è quella ce la sogniamo noi esiste solo il dottor Fiala con l'indirizzo che resta sempre lo stesso oh non sono affatto pazza sono solo un po' eccitata e che è del tutto naturale prima di rinascere perché la else di prima è già morta sì sono sicuramente morta non c'è bisogno del veronal per questo non dovrei forse buttarlo la cameriera potrebbe verlo per sbaglio ci metterò vicino un biglietto con su scritto veleno no meglio medicina perché non capiti nulla alla cameriera così nobile d'animo sono io così medicina due volte sottolineato e tre punti esclamativi ora non può succedere nulla e se tornando su non avessi voglia di uccidermi e volessi solo dormire allora non berrei l'intero bicchiere ma solo un quarto di esso o meno ancora molto semplice tutto dipende da me la cosa più semplice sarebbe correre giù così come sono per il corridoio e le scale ma no non potrei essere fermata prima di arrivare giù e poi devo avere la certezza che il signor fondosdi sia presente altrimenti non spedirà il denaro sporcaccione ma devo ancora scrivergli questa è la cosa più importante com'è fredda la spalliera della sedia ma è un freddo piacevole quando avrò la mia villa su un lago italiano andrò sempre in giro nuda per il parco la penna stilografica la lascerò a fred quando morirò ma per ora ho qualcosa di più ragionevole da fare che morire stimatissimo signor visconte dunque razzocinio else nessuna intestazione né stimatissimo né spregiatissimo la sua condizione signor Von Dostey è adempiuta quando leggerà queste righe signor Von Dostey la sua condizione sarà adempiuta anche se non precisamente nel modo da lei previsto come scrive bene la ragazzina direbbe papà e così conto che lei dal canto suo manterrà la parola e senza indugio farà spedire telegraficamente i 50.000 fiorini al noto indirizzo else no niente else proprio nessuna firma bene la mia bella carta da lettere gialla l'ha avuta regalata a Natale peccato così e adesso telegramma e lettera nella busta al signor Von Dostey camera numero 65 perché poi il numero lascerò semplicemente la lettera dinanzi alla sua porta nel passare ma non sono obbligata a farlo non ho proprio alcun obbligo se ne avessi voglia potrai ora andare a letto e dormire e non preoccuparmi più di nulla né del signor Von Dostey né di papà un vestito da detenuto è anche elegante molti si sono già uccisi prima di lui e tutti dobbiamo morire ma per ora non hai bisogno di tutto ciò papà hai una figlia con un corpo magnifico indirizzo sempre fiala promuoverò una colletta andrò in giro col piattino perché dovrebbe pagare solo il signor Von Dostey sarebbe un'ingiustizia ognuno secondo le sue possibilità quanto metterà nel piattino Paul e quanto il signore colpinsnez d'oro ma non illudetevi che il piacere duri molto mi ricoprirò subito correrò su per le scale nella mia camera mi cuiderò dentro e se ne avrò voglia verrò ad un fiato tutto il bicchiere ma non ne avrò voglia sarebbe solo un'aviltà non meritano affatto tanto rispetto i farabutti vergognarmi di voi io vergognarmi di qualcuno non ne ho proprio bisogno lasciati guardare ancora una volta negli occhi bella Els gli occhi enormi hai quando ci si avvicina vorrei che qualcuno mi baciasse sugli occhi sulla bocca rossa di sangue il mantello mi arriva appena sopra le caviglie si vedrà che i piedi sono nudi che fa si vedrà ancora di più ma non sono obbligata a farlo posso tornare subito indietro prima ancora di essere giù posso tornare indietro al primo piano non ho affatto bisogno di scendere ma lo voglio ne ho piacere non ho desiderato per tutta la vita una cosa simile che aspetto ancora sono pronta la rappresentazione può incominciare non dimenticare la lettera una scrittura aristocratica afferma Fred arrivederci Els sei bella con quel mantello le Fiorentine si sono fatte dipingere così i loro ritratti sono appesi nelle gallerie e per loro è un onore non si dovrebbe vedere proprio nulla se ho addosso il mantello solo i piedi solo i piedi metterò le scarpe nere di vernice e penserà che ho le calze color carne attraverserò così la hall e nessuno immaginerà che sotto il mantello non c'è nient'altro che il mio corpo nudo e poi potrò sempre risalire chi è che suona così bene il pianoforte Chopin e il signor Fondosdey sarà il quanto nervoso forse avrà paura di Paul pazienza pazienza tutto ci accomoderà non so ancora nulla signor Fondosdey io stessa sono terribilmente curiosa spegnere la luce è tutto in ordine nella mia camera addio veronal arrivederci addio mia amatissima immagine riflessa come splendide il buio mi sono già abituata ad essere nuda sotto il mantello molto piacevole chissà se alcune non siedano così nella hall e nessuno lo sa e se qualche signora non va così a teatro e siede così nel palco per scherzo o per altre ragioni devo chiudere la chiave e per quale motivo qui non rubano nulla e anche se così fosse non ho bisogno più di nulla finito dove sarà mai il numero 65 nessuno nel corridoio ancora tutti giù a tavola 61 62 che enormi scarpe da montagna sono davanti a questa porta qui è appeso un paio di pantaloni decente 64 65 eccoci qui abita il visconte poggio la lettera a terra vicino alla porta così dovrà vederla subito non la ruberà certo nessuno eccola lì non fa nulla posso sempre fare ciò che voglio mi sono semplicemente fatto beffa di lui purché non rincontri ora per le scale eccolo che viene no non è lui è molto più simpatico del signor fondosdei molto elegante con quei piccoli baffi neri quando sarà arrivato potrei fare una piccola prova aprire il mantello appena un pochino ho una gran voglia di farlo mi guardi signore non immagina davanti a chi sta passando peccato che sale proprio adesso perché non resta nella hall perde un'occasione grande spettacolo perché non mi trattiene il mio destino è nelle sue mani se lei mi saluta torna indietro e allora mi saluti pure la guardo così gentilmente non saluta è passato si volta lo sento chiami saluti mi salvi forse sarà colpevole della mia morte caro signore ma non lo saprà mai indirizzo sempre fiala dove sono? già nella hall come ci sono arrivata così poca gente e tanti sconosciuti o forse ci vedo così male dov'è Dostey? non è qui che sia un segno del destino torno indietro scriverò un'altra lettera a Dostey mi aspetto nella mia stanza verso mezzanotte porti con sé il telegramma per la sua banca no potrebbe pensare che si tratta di una trappola potrebbe anche esserlo potrei avere Paul nascosto da me e potrebbe costringerlo con la pistola a consegnarci il telegramma estorsione una coppia di delinquenti dov'è Dostey? Dostey dove sei? che si sia ucciso per il rimorso della mia morte? sarà nella sala da gioco sicuro siederà un tavolino a giocare a carte allora gli farò un cenno con gli occhi dalla porta si alzerà subito eccomi signorina la sua voce tremerà vogliamo andare un po' a passeggio signor Dostey come vuole signorina Els andiamo nel bosco attraverso il Marianweg siamo soli apro il mantello i 50.000 devono essere spediti l'aria è fredda prendo una polmonita e muoio perché mi guardano quelle due signore notano qualcosa? ma perché sono qua? sono forse impazzita ritornerò nella mia camera mi vestirò in fretta indosserò il vestito azzurro e di sopra il mantello come adesso ma aperto così nessuno potrà credere che poco prima non avevo nulla addosso non posso tornare indietro e neanche voglio tornare indietro dov'è Paul? dov'è zia Emma? dov'è Cissi? ma dove sono tutti gli altri? nessuno se ne accorgerà non lo si può notare affatto chi è che suona così bene? Chopin? no Schumann mi aggiro nella hall come un pipistrello 50.000 il tempo passa devo trovare questo maledetto signor Von Dorsey no devo ritornare nella mia camera verrò il veronal solo un sorsetto poi dormirò bene dopo la fatica è dolce il riposo ma il lavoro non è ancora compiuto se il cameriere porta il caffè a quel signore anziano laggiù allora andrà tutto bene e se invece lo porta a quella giovane coppia nell'angolo tutto è perduto come? che significa ciò? porta il caffè al signore anziano evviva andrà tutto bene a Cissi e Paul passeggiano davanti all'hotel chiacchierano molto allegramente lui non è in eccessiva apprezzione per il mio mal di testa imbruglione Cissi non ha dei seni così belli come i miei certo ha avuto un bambino che si diranno se si potesse ascoltare che mi interessa quel che dicono potrei uscire anch'io davanti all'hotel augurar loro la buonasera e poi andar via sul prato nel bosco salire arrampicarmi sempre più in alto fin sul cimone sdraiarmi addormentarmi morire assiderata misterioso suicidio di una giovane dell'alta società viennese è stata trovata morta in un punto inaccessibile del cimone della pala con indosso solo un mantello nero da sera forse non mi servirà o forse solo l'anno venturo o ancora più tardi o tre fatta uno scheletro meglio restare nella hall riscaldata e non morire assiderata allora signor fondosdei dove si è cacciato sono obbligata ad aspettare è lei che deve cercare me non io lei darò ancora un'acchiata nella sala da gioco se non sarà lì perderà il suo diritto e gli scriverò era irreperibile signor fondosdei ha rinunciato volontariamente ma questo non lo scioglie dall'impegno di spedire subito il denaro il denaro quale denaro che me ne importa mi è completamente indifferente se spedirà il denaro o no non sento più la ben che minima compassione per papà non ho compassione per nessuno nemmeno per me stessa il mio cuore è morto credo che non batta più forse ho già bevuto il veronal perché la famiglia olandese mi guarda in quel modo ma è impossibile che si noti qualcosa anche il portiere mi guarda in modo così sospetto e si è arrivato un altro telegramma 80.000 100.000 l'indirizzo sempre fiala se ci fosse un telegramma me lo direbbe mi guarda con molto rispetto non sa che sotto il sopravvito non ho nulla addosso nessuno lo sa porne indietro mi salgo in camera indietro 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 senza impassi per le scale sarebbe una scena simpatica tre anni fa sul vertersee una signora ha fatto il bagno completamente nuda ma è partita lo stesso pomeriggio mamma ha detto che era una cantante di operette di berlino schumann sì carnaval chiunque sia un uomo o una donna suona abbastanza bene ma la sala da gioco è a destra ultima possibilità signor dotei se è là gli farò un cenno con gli occhi di venire e gli dirò verso mezzanotte sarò da lei farabutto no farabutto non glielo dico ma glielo dirò dopo qualcuno mi segue non mi volto no no else mio dio la zia avanti avanti else devo voltarmi non c'è nulla da fare oh buonasera zia ma else che ti succede stavo appunto venendo da te paul mi ha detto ma che aspetto che hai che aspetto zia sto già abbastanza bene ho anche mangiato un pochino nota qualcosa nota qualcosa else non hai messo le calze e che dici zia mio dio è vero sono senza calze non ti senti bene else i tuoi occhi hai la febbre febbre non credo ho soltanto avuto un tremendo mal di testa come non mi è mai capitato in vita mia devi andare subito a letto figliuola sai pallida come una morta è effetto della luce zia sembrano tutti pallidi qui nella hall mi osserva più stranamente ma non può notare nulla conservare la calma ora papà è perduto se non conservo la calma devo dire qualcosa sai zia cosa mi è capitato quest'anno a vienna una volta sono uscita con una scarpa gialla e una nera non è vero niente devo continuare a parlare ma che devo dire sai zia dopo gli attacchi di emicrania divento talvolta così distratta anche a mamma capitava prima non è vera neppure una parola a ogni modo manderò a chiamare il dottore ma ti prego zia nell'hotel non ce ne sono si dovrebbe andarne a chiamare uno da un altro paese riderebbe di gusto quando sapesse che l'abbiamo fatto venire perché non ho messo le calze non dovrei ridere così forte il vice della zia è stravolto per la paura la cosa le sembra preoccupante spalanca gli occhi di Else non hai visto per caso Paul ah vuole procurarsi rinforzi calma tutto è in gioco credo che stia passeggiando con Cissimor davanti all'hotel se non erro davanti all'hotel andrò a chiamarli prenderemo un tè tutti insieme ti va volentieri che faccia strana fa la saluto con un cenno del capo e le sorrido innocentemente se n'è andata ora salirò nella mia camera no che dovrei fare nella mia camera non c'è più un minuto da perdere neppure un minuto cinquantamila cinquantamila ma perché corro così piano piano ma che voglio come si chiama l'uomo signor fondosdei che nome strano ecco la sala da gioco tenda verde dinnanzi alla porta non si vede nulla mi alzo in punta di piedi partita di whist quelli giocano ogni sera no due signori giocano a scacchi il signor fondosdei non c'è vittoria salva come devo continuare a cercare sono condannata a cercare il signor fondosdei fino alla morte anche egli certamente mi cerca non ci incontreremo mai forse mi cerca di sopra ci incontreremo sulle scale gli olandesi mi guardano di nuovo abbastanza carina la figlia il vecchio ha gli occhiali gli occhiali gli occhiali cinquantamila non è poi tanto cinquantamila signor fondosdei schumann sì carnaval l'ho studiato anch'io una volta suona bene la signora perché poi la signora potrebbe anche essere un signore o forse una virtuosa voglio dare un'occhiata nella sala da musica ecco la porta dosdei mi sento svenire dosdei è lì accanto alla finestra e ascolta com'è possibile io mi struggo impazzisco muoio e lui se ne sta ad ascoltare una estranea che suona il piano sul divano si addono due signori quello biondo è arrivato solo oggi l'ho visto scendere dalla vettura la signora non è poi più giovane è qui già da qualche giorno non sapevo che suonasse così bene il piano beata lei beati tutti io solo io sono dannata dosdei dosdei è proprio lui non mi vede ora sembra una persona per bene ascolta cinquantamila adesso mai più aperta ad agio la porta aperta ad agio la porta eccomi il signor fondosdei non mi vede gli farò solo un cenno con gli occhi poi aprirò un poco il mantello così basta in fondo sono solo una ragazza una ragazza per bene di buona famiglia non sono una prostituta voglio andarmene voglio prendere del veronale e dormire sei ingannato il signor fondosdei non sono una prostituta adie adie sollevo lo sguardo eccomi il signor fondosdei che occhi fa le sue labbra tremano i suoi occhi penetrono nella mia fronte non immagina che sono nuda sotto il mantello mi lascia andare mi lascia andare i suoi occhi sono di fuoco i suoi occhi minacciano che vuole da me lei è un farabutto nessun altro mi vede tranne lui gli altri ascoltano venga dunque signor fondosdei non si accorse di nulla là nella poltrona mio dio nella poltrona ma è la canaglia cielo ti ringrazio è tornato è tornato era partito solo per una gita ora è tornato la testa di antico romano è di nuovo qua il mio fidanzato il mio amato ma non mi vede né deve vedermi che vuole lei il signor fondosdei mi guarda come se fossi la sua schiava non solo la sua schiava cinquantamila resta tutto come d'accordo signor fondosdei sono pronta eccomi sono calma sorrido comprende lo sguardo i suoi occhi mi dicono vieni i suoi occhi mi dicono ti voglio vedere nuda ebbene farabutto sono nuda che vuoi ancora manda il telegramma subito un brivido mi corre per la pelle la signora continua a suonare un brivido delizioso mi corre per la pelle è meraviglioso essere nuda la signora continua a suonare e non sa quel che succede qui nessuno lo sa finora non mi ha visto ancora nessuno canaglia canaglia sono qui nuda dorsdei spalanca gli occhi ora finalmente ci crede la canaglia si alza i suoi occhi brillano tu si che mi capisci bel giovane la signora non suona più papà è salvo 50.000 indirizzo sempre fiala chi è che ride io stessa che significano queste facce intorno a me è stupido ridere non voglio ridere non voglio else chi chiama else è paul deve essere dietro di me sento un soffio d'aria sulla mia schiena nuda mi fischiano le orecchie sono forse già morte cosa vuole lei signor fondosdei perché è così grande e precipita su di me ma che ho fatto che ho fatto che ho fatto svengo tutto è finito ma perché non c'è più musica un braccio avvince la mia nuca e paul dov'è la canaglia sono distesa a terra il mantello mi cade addosso e ho giaccio qua l'agente mi crede svenuta no non sono svenuta sono perfettamente cosciente sono cento volte sveglia mille volte sveglia solo devo sempre ridere ora ho ottenuto ciò che volevo il signor fondosdei deve mandare il denaro per papà subito non voglio gridare e devo sempre gridare ma perché devo gridare i miei occhi sono chiusi nessuno può vedermi papà è salvo esse questa la zia esse esse un medico un medico presto dal portiere che è successo ma non è possibile povera bambina che dicono mai che mormorano non sono una povera bambina sono felice la canaglia mi ha visto nuda mi vergogno tanto cosa ho fatto non riaprirò mai più gli occhi per favore chiudete la porta perché bisogna chiudere la porta che mormorio mille persone sono intorno a me tutti pensano che sia svenuta non sono svenuta sono soltanto si calmi signora hanno già mandato a chiamare il medico è uno svenimento come sono lontani tutti parlo tutti dall'alto del cimone ma non la si può lasciare a terra ecco un plaid una coperta coperto a plaid fa lo stesso per favore un po' di silenzio sul divano ma chiudete una buona volta la porta non sia così nervosa è già chiusa else else se almeno la zia si calmasse mi senti else ma mamma lo vedi bene che è svenuta si grazie a dio per voi sono svenuta e rimarrò anche svenuta dobbiamo portarla dobbiamo portarla nella sua camera ma cos'è successo per l'amor di dio cissi com'è che cissi viene sul prato ma qui non siamo sul prato else silenzio per favore per favore si facciano un po' indietro mani mani sotto di me ma che vogliono come sono pesante le mani di paul via via la canaglia è vicina a me lo sento e dolce se n'è andato bisogna cercarlo non può uccidersi prima di aver spedito i 50.000 signore e signori mi deve del denaro arrestatelo hai idea dichiara quel telegramma paul buonasera signori else mi senti la lasci stare signora cissi ah paul il direttore dice che possono trascorrere quattro ore prima che il medico sia qui sembra che dorma sono distesa sul divano paul mi tiene la mano mi testa il pulso ma certo è medico non c'è pericolo mamma uno svenimento non resterò neppure un giorno di più in questo hotel ti prego mamma domattina presto partiamo ma semplicemente per la scala di servizio la barella sarà subito qui barella non ci sono già stata oggi su una barella non ero già morta devo morire un'altra volta direttore vuol fare in modo che la gente si allontani una buona volta dalla porta non t'agitare mamma questa gente manca proprio di riguardo ma perché mi svegliano tutti come nella camera di un moribondo ma presto sarà qui la barella apri la porta signor matador il corridoio è libero però la gente potrebbe avere un po' più di riguardo ti prego mamma calmati prego signora vuole prendersi un po' di cura di mia madre signora cissi è la sua amante ma non è così bella come me ma che c'è di nuovo che succede portano la barella lo vedo con gli occhi chiusi è la barella su cui portano le vittime di incidenti su di essa hanno portato anche il dottor Zicmondi che è precipitato dal cimone e ora cazzo io sulla barella anch'io sono precipitata ah no non voglio gridare di nuovo mi sbigliano chi è che ci china sul mio capo c'è un buon odore di sigaretta la sua mano è sotto la mia testa mani sotto la schiena mani sotto le gambe via via non mi toccate sono nuda ah ma che volete lasciatemi in pace è solo per papà per favore piano così ad agio i plaid sì grazie signora Cissi perché la ringrazia che ha fatto che sarà di me ah com'è bello com'è bello volo 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 nell'aldilà mi portano mi portano mi portano alla tomba ma ci siamo abituati dottore ne abbiamo portati di più pesanti l'autunno scorso due in una volta psst psst vuole avere la compiacenza di precederci signora Cissi e di guardarsi nella camera di Elsa è tutto in ordine che deve fare Cissi nella mia camera il veronal il veronal speriamo che non lo butti via in tal caso dovrai gettarmi dalla finestra grazie direttore non si incomodi più più tardi mi prenderò la libertà di chiedere di nuovo come sta la signorina la scala scricchiola i portatori hanno pesanti scarpe da montagna dove sono le mie scarpe di vernice sono rimaste nel salone le ruberanno volevo lasciarle in eredità ad Agate Fred avrà la mia penna stilografica mi portano mi portano corteo funebre dov'è Dostei assassino è andato via anche la canaglia è andata via hanno andato di nuovo un giro per il mondo è tornato solo per vedere una volta i miei seni bianchi e ora è di nuovo via cammina lungo una strada che fa venire le vertigini tra la roccia e l'abisso addio addio volo volo potrebbero portarmi sempre più su fino al tetto fino al cielo sarebbe così comodo lo presentivo Paul che ha presentito la zia già in tutti questi ultimi giorni mi aspettavo una cosa simile non è affatto normale naturalmente dovrà essere ricoverata in una casa di salute ma mamma ora non è proprio il momento di parlare di queste cose casa di salute casa di salute non crederai mica Paul che tornerò a Vienna viaggiando nello stesso scompartimento con lei ne potrebbero succedere delle belle non succederà proprio nulla mamma ti garantisco che non avrai alcun fastidio come puoi garantire una cosa simile non sia non avrai alcun fastidio nessuno avrà fastidio neppure il signor Fondorsday ma dove siamo ci fermiamo siamo al secondo piano apro un pochino gli occhi apro un pochino gli occhi chi si sta sulla soglia e parla con Paul da questa parte prego così così qui grazie accostino la barella tutta vicina al letto sollevano la barella mi portano com'è bello così sono di nuovo a casa grazie così va bene per favore chiudete la porta vuole essere così gentile da aiutarmi Cissi con piacere dottore adagio per favore la prenda da questa parte Cissi la prenda per le gambe attenzione e poi Else mi senti Else ma certo che ci sento Paul sento tutto ma a voi che ve ne importa è così bello essere svenuta fate quel che volete Paul signora credi davvero che sia svenuta Paul tu gli dai del tu mi ha un pescati tu gli dice sì è completamente priva di sensi di solito succede da possibili crisi c'è da morire dalle risate Paul quando fai così seriamente il medico mi ha pescati imbroglioni mi ha pescati zitta Cissi perché mai se non sente nulla che è successo sono a letto nuda sotto la coperta come hanno fatto allora come va meglio questa è la zia ma ma che vuole qua sempre svenuta si avvicina in punta di piedi ma dal diavolo non mi lascio ricoverare in nessuna casa di salute non sono pazza non si può farla rinvenire presto riprenderai sensi mamma adesso ha bisogno solo di riposo del resto anche tu mamma non vuoi andare a letto non c'è assolutamente alcun pericolo sveglierò Elsa insieme con la signora Cissi certo signora sono la dama di guardia oppure lo è Elsa secondo il punto di vista miserabile donnaccia io giaccio qui priva di sensi e lei scherza e posso essere sicura Paul che mi farai svegliare appena verrà il medico ma mamma non verrà prima di domattina sembra che dorma il suo respiro è del tutto regolare è anche una specie di sonno mamma non posso ancora credersi Paul un tale scandalo vedrai ne parleranno i giornali mamma ma non può dire nulla se è svenuta e poi parliamo pianissimo in queste condizioni i sensi si acquiscono talvolta straordinariamente hai un figlio così dotto signora ti prego mamma va a letto domani partiremo in ogni caso e a Bolzano prenderemo un'infermiera per Else cosa un'infermiera il bagliate di grosso parleremo di tutto domani mamma buonanotte mamma mi farò portare a un tè in camera e fra un quarto d'ora verrò di nuovo a dare un'occhiata ma non è assolutamente necessario mamma no necessario non lo è veramente faresti meglio ad andare al diavolo dov'è il vero devo aspettare ancora accompagnano la zia alla porta ora non mi vede nessuno il bicchiere col vero nal deve essere sul comodino se lo bevo tutto finirà fra poco lo verrò la zia è andata via paul e cissi sono ancora sulla soglia lo bacia lo bacia e io giaccio nuda sotto la coperta ma non vi vergognate per nulla lo bacia di nuovo non vi vergognate vedi paul adesso sono sicura che è priva di sensi altrimenti mi sarebbe sicuramente saltata alla gola non potresti fare il favore di tacere cissi ma che vuoi paul o è veramente svenuta e allora non sente e non vede nulla o si prende gioco di noi e allora le sta bene hanno bussato cissi è sembrato anche a me aprirò ad agio e vedrò chi è buonasera signor fondosdei mi scusi volevo solo domandare come sta l'ammalata dorsday dorsday osa davvero è un'audito ma dov'è gli ho dobbis bigliare fuori dalla porta paul e dorsday cissi si mette davanti allo specchio e fa lì davanti allo specchio è il mio specchio non c'è ancora dentro la mia immagine che dicono fuori dalla porta paul e dorsday sento lo sguardo di cissi mi guarda dallo specchio chi vuole perché si avvicina aiuto aiuto ma io grido e nessuno mi sente che vuole vicino al mio letto cissi perché si china su di me vuole strangolarmi non mi posso muovere else ma chi vuole else mi senti else sento ma taccio sono svenuta devo tacere else ti hai fatto prendere una bella paura parla con me parla con me come se fossi sveglia ma chi vuole sa cosa ha fatto else pensi è entrata nel salone coperta solo di un mantello ed un tratto è rimasta nuda davanti a tutti e poi è caduta a terra svenuta una crisi isterica si afferma io non ci credo per nulla non credo neanche che è priva di sensi scommetto che sente ogni mia parola sì sento sì 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 ma lei non sente il mio sì ma perché no non riesco a muovere le labbra perciò non mi sente non riesco a muovermi che mi succede sono morta sono morta apparentemente sogno dov'è il veronal vorrei bere il mio veronal ma non posso allungare il braccio vada via cissi perché china su di me via via non saprà mai che l'ho sentita nessuno lo saprà mai non parlerò mai più con nessuno non mi sveglierò mai più va verso la porta si volta di nuovo a guardarmi apre la porta l'ho stay è là l'ho visto con gli occhi chiusi no lo vedo veramente con gli occhi aperti la porta è su chiusa anche ci sia di fuori ora mi sbigliano tutti sono sola se adesso mi potessi muovere ah ci riesco ci riesco muovo la mano le dita allungo il braccio spalanco gli occhi vedo vedo ecco il mio bicchiere presto prima che rientrino in camera basteranno le cartine non mi dovrò svegliare mai più quel che avevo da fare al mondo l'ho fatto papà è salvo non potrei mai più essere tra gli uomini paul guarda attraverso lo spiraglio della porta pensa che io sia ancora venuta non vede che ho già quasi allungato il braccio ora sono di nuovo tutte e tre fuori della porta gli assassini sono tutti assassini losti e cissi e paul anche freddo è un assassino e mamma è un'assassina tutti mi hanno assassinata e fanno finta di non saperlo si è suicidata diranno voi mi avete uccisa voi tutti voi tutti l'ho preso finalmente presto presto devo berlo non versare neppure una goccia così presto è buono avanti avanti non è affatto un veleno mai nulla mi è piaciuto tanto e sapeste che buon sapore alla morte buonanotte mio bicchiere clic clic ma che c'è il bicchiere a terra è lì sotto buonanotte elzare ma che volete elzare siete di nuovo qua buongiorno eccomi qua svenuta con gli occhi chiusi non vedrete più i miei occhi dove essersi mossa paul se no come sarebbe potuta cadere un movimento involontario questo è ben possibile a meno che non sia svenuta ma che ti salta in mente cissi guardala bene ho bevuto il veronan morrò ma mi sento proprio come prima forse non era abbastanza paul mi prende la mano il polso è tranquillo ma non ridere cissi povera bambina diresti anche a me povera bambina se mi fossi mostrata nuda nel salone dai un po' zitta cissi come vuole signore dovrai forse anche allontanarmi e lasciarti solo con la signorina nuda ti prego non aver soggezione fa pure come se non ci fossi ho bevuto il veronan bene morirò grazie a dio peraltro ho l'impressione che quel signor von dorsde si è innamorato della signorina nuda era così agitato come se la cosa lo riguardasse personalmente dorsde dorsde è proprio lui cinquantamila li manderà mio dio e se non li mandasse devo dirlo loro devono costringerlo oddio se tutto fosse stato inutile ma ora mi si può ancora salvare paul cissi ma perché non mi sentite non sapete che muoio però non mi sento nulla ho soltanto sonno paul ho sonno non mi senti ho sonno paul non riesco ad aprire le labbra non posso muovere la lingua ma non sono ancora morta è l'effetto del veronan dove siete fra poco mi addormenterò allora sarà troppo tardi non li sento parlare parlano e non li capisco le loro voci sembrano scrosciare così stranamente aiutami dunque paul la mia lingua è così pesante credo che presto si sveglierà cissi sembra già che si sforzi di aprire gli occhi ma che fai cissi ti abbraccio perché non dovrai lei neppure ha avuto vergogna no non mi sono vergognata sono stata lì nuda davanti a tutti se solo potessi parlare capireste il perché paul paul voglio che mi sentiate ho bevuto il veronan paul dieci cartine cento non volevo farlo sono stata una pazza non voglio morire devi salvarmi paul sei medico salvami ora sembra che si sia calmata di nuovo il polso il polso è abbastanza regolare salvami paul ti scongiuro ti prego non lasciarmi morire ora siamo ancora in tempo ma poi mi addormenterò e non lo saprete non voglio morire salvami dunque è stato solo per papà l'ostai l'ha preteso paul paul guarda un po' cissi non ti sembra che sorrida come non dovrebbe sorridere paul se continui a tenerle teneramente la mano si 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 che ti ho mai fatto perché tu sia così cattiva con me tieniti il tuo paul ma non lasciatemi morire sono ancora così giovane mamma si affliggerà voglio ancora arrampicarmi su molti monti voglio ancora ballare voglio anche sposarmi voglio ancora viaggiare domani faremo la gita sul cimone domani sarà una giornata magnifica dovrà venire anche la canaglia mi pregio di invitarlo ma rincorrilo paul cammina per un sentiero così vertiginoso incontrerà papà indirizzo sempre fiala non dimenticarlo sono solo 50.000 e paul c'era tutto sistemato ecco che marciano tutti investito da detenuto e cantano apri la porta signor matador ma tutto è solo un sogno ecco che passa anche fred con la signorina rauca e il pianoforte è all'aperto l'accordatore abita nella bertensteinstrasse mamma perché non gli hai scritto bambina dimentichi proprio tutto dovrebbe studiare di più le scale else è una ragazzina di 13 anni dovrebbe essere più dilizente rudy è andato al ballo in maschera ed è rincasato solo alle 8 di mattina cosa mi hai portato papà? 30.000 bambole ci vorrà una casa apposta per loro ma potranno anche andare a passeggio nel giardino oppure al ballo in maschera con rudy ciao else ah berta sei tornata da napoli sì dalla sicilia permetti che ti presenti mio marito else enchanté monsieur else mi senti else sono io paul paul perché sei a cavallo della giraffa sulla giostra else else e non scappartene non mi puoi certo sentire essere trotti così veloce per i viali mi devi salvare ho preso il vero nal me lo sento correre per le gambe a destra e a sinistra come se fossero formiche sì prendilo il signor von d'Arstey è raggiù che corre non lo vedi? ecco che oltrepassa con un balzo il leghetto ha ucciso papà rincorrilo dunque corro anch'io mi hanno legato la barella alle spalle ma corro lo stesso i miei seni tremano ma corro lo stesso dove sei paul? fred dove sei? mamma dove sei? cissi perché mi lasciate correre sola nel deserto? ho paura così sola sarà meglio che voli sapevo che ero capace di volare else else dove siete mai? vi sento ma non vi vedo else else ma che succede? un intero coro anche l'organo canto anch'io che lead sarei mai? cantano tutti anche i boschi e le montagne e le stelle non ho mai sentito nulla di così bello mai vista una notte così luminosa dammi la mano papà vogliamo insieme è così bello è così bello il mondo quando si può volare è così bello il mondo quando si può volare ma non baciarmi la mano sono la tua bambina papà else 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 chiamano da così lontano che volete? non svegliatemi dormo così bene la mattina sogno e volo 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 dormo e sogno e volo non svegliatemi la mattina el volo sogno dormo sa sa bo